L'input grafico è la base di tutti i calcoli, non solo dei calcoli energetici, legge 10, diagnosi e quant'altro, ma anche dei calcoli imbiandistici. Se per esempio voi avete dei moduli tipo canali, tubi, pannelli radianti, tutto è legato all'input grafico. Quindi se l'input grafico è fatto bene, tutto il resto prosegue per bene. Se c'è qualche problema, e voi non lo identificate questo problema qua nell'input grafico, ve lo portate dietro, con errori anche nei moduli successivi, nella valutazione successiva. Quindi è di fondamentale importanza fare una valutazione corretta dell'input grafico. E questo è un po' lo scopo di questo corso. Allora, prima cosa, quando si parte a fare un nuovo file, si va qui sull'icona del software, si schiaccia nuovo e vado a selezionare il dvt, questo che vedete qua, mc4 suite iso, che è un dvt in millimetri. Allora io questo lo apro, vedete? Dopodiché cosa faccio? Vado a fare file, salvo con nome, vado a dargli la posizione dove desidero andare a salvare questo file, per esempio possiamo metterlo qui. Disegno 1, poi lo posso anche cambiare, posso dargli il nome che voglio, input, e lo salvo. Questo file è un file dvg, quindi praticamente voi avete all'interno di questo componente, che è un dvg di AutoCAD, avete tutte le informazioni, sia grafiche, perché questo non dimentichiamo che questo è un ambiente grafico di AutoCAD. In sostanza questa versione suite 2021 OM racchiude all'interno l'AutoCAD 2020. Quindi voi potete fare dei disegni che non c'entrano niente con mc4, proprio disegni di AutoCAD, o potete fare anche l'uno e l'altro, potete mettere nel vostro dvg disegni di AutoCAD e poi input di mc4. Tutte le informazioni, sia grafiche dell'edificio, sia imbiandistiche, se voi fate imbiandi, canali, quant'altro eccetera, saranno registrati in questo unico file. Quello che è importante ricordarsi però è di lavorare con questo file e anche con i riferimenti esterni che voi andate ad inserire sul vostro pc, quindi sull'hard disk, sul disco fisso del vostro pc. Non bisogna lavorare in rete, oppure in percorsi di rete o quant'altro, perché questo non lo consigliamo, perché voi non siete sicuri che la rete sia così stabile. Magari per qualche frazione di secondo avete un'interruzione e questo potrebbe crearvi dei problemi. Questo non vuol dire che voi non possiate poi salvare i vostri file in rete e poi riprenderli. Io sto parlando proprio di lavorare in rete, costantemente in rete, quindi questo noi lo sconsigliamo. Altra cosa importante, quando voi avete una versione della vostra suite, voi dovete fare attenzione, innanzitutto, ad averla aggiornata, la versione. Quindi, mi raccomando di installare sempre gli ultimi aggiornamenti che noi diamo. Ad esempio, la versione attuale è la versione 3.1.2, voi lo vedete appunto selezionando questo tasto informazione. Quando voi passate il dvg che voi state facendo a un'altra postazione, o di un vostro collaboratore o quant'altro, dovete accertarvi che anche lui ha la stessa versione. Perché se lui ha una versione inferiore, questo file qui, lui non riesce ad aprirlo poi. Quindi, mi raccomando, anche questa cosa è importante. Allora, adesso vado ad aprire, chiudo questo, vado ad aprire un file che io ho già predisposto, che è questo, dove all'interno del quale ho già caricato alcune cose. Innanzitutto ho caricato il disegno del ponte termico, che poi vi farò vedere, inserirò un ponte termico agli elementi finiti. Poi sono andato a caricare anche nei vari archivi i vari componenti. Adesso, per ragione di tempi, non è che posso far vedere la creazione di tutte le varie componentistiche. Prima cosa, un'altra cosa importante, se siete, diciamo, alle prime armi, potrebbe essere utile anche visualizzare, diciamo, attivare questa scheda qui, che è la scheda step by step. In sostanza, vi dà tutto l'ordine consecutivo. Non so, voi iniziate dai dati generali, man mano andate avanti. Se invece lo conoscete già, voi tutti questi componenti qua ce li avete già negli archivi. Gli archivi del soft sono, vedete, c'è l'archivio di edificio, cioè la scheda edificio che riguarda calcolo energetico, legge 10 e quant'altro. Le altre schede riguardano altri componenti che voi potete avere o potete non avere, quindi impiantistici e quant'altro, diciamo. Quindi noi lavoreremo sostanzialmente nella scheda edificio. Allora, la prima cosa che uno va a fare quando crea un nuovo progetto, va a dargli la località di progetto. Quindi andiamo nei dati di progetto. Nei dati di progetto c'è la scheda che adesso vi mostro. Un attimo solo che si apre. Eccola qua. La scheda che mostra è quella dei dati climatici, dove all'interno del quale voi potete sostanzialmente scrivere il nome della località, se è conosciuto. Poi ci cliccate e poi fate carica. Questi dati sono ovviamente dati che sono previsti dalle norme. Qui avete la possibilità di visionare, ad esempio, le temperature medie mensili, diciamo, per il calcolo del G10. Altri dati che poi servono. E altri dati che possono servire, ad esempio, altri moduli, tipo il calcolo dei carichi termici estivi a Scenai. Quindi questa è la scheda delle località. Questa stessa scheda voi potete accedere anche da un'altra scheda che è questa, dove potete anche o caricare i materiali, come si chiamano, le località da questo nostro database, creare il vostro database, andare a modificare anche i vostri dati e poi per poterli caricare poi nell'archivio. Quindi diciamo che l'archivio adesso dei comuni, come tutti gli altri archivi del software, è un archivio aperto. Quindi ovviamente con una certa attenzione, però, perché tenete presente che i dati climatici sono normati. Quindi potete fare delle variazioni, però fate attenzione a quello che modificate. Tutti gli archivi, anche vi faccio presente, che sono composti, ad esempio, non so, apriamo l'archivio delle strutture, sono composti di tre schede, che è la scheda progetto, che sono i componenti che voi state usando nel vostro progetto. La scheda archivio, che è il vostro archivio, è la scheda archivio MC4, che contiene molti elementi che voi potete anche utilizzare, voi potete caricare un elemento di archivio MC4, poi nessuno vi vieta di andarlo poi a modificarlo, cambiargli il nome e quant'altro. Queste sono le strutture che ho caricato già relative al progetto che voglio mostrarvi. Vediamo un attimino quali sono i dati principali. Allora, innanzitutto, sulla prima scheda, che è quella dei dati generali, è importante sicuramente andare a definire il tipo di struttura, quindi se io ho una parete esterna oppure se ho una parete interna. Perché? Perché i coefficienti liminari sono legati a questa impostazione. Quindi se hai una parete esterna dovete metterla così, se hai una parete interna dovete metterla interna, perché cambiano i coefficienti liminari. Altra cosa importante è il colore, il colore esterno. Allora, questo ha influenza sia sul calcolo energetico di legge 10, sia sul calcolo delle potenze estive Asherai. Quindi anche questo ha una certa influenza. Poi, altra cosa importante, che molti magari non sanno o non conoscono bene, è il tipo di verifica. Vedete qua? Tipo di verifica. Allora, questo ovviamente riguarda il calcolo di legge 10. Poi qui decidete se fare verificare la struttura o non farla verificare, cioè magari è una struttura vecchia, quindi in quel caso lì non intervenite sulla struttura, non volete che venga considerata nel calcolo di legge 10 e gli date non verificare. Se poi questa è anche una struttura che magari voi l'avete messa per fare qualcosa di diverso da legge 10, non volete che venga stampata, diciamo, allora gli dite non stampata. Questa impostazione qua condiziona non solo le verifiche a secondo degli interventi che voi fate, ma anche, quindi anche per esempio l'H1T, tanto per dirvene uno, no? Quello dipende da cosa voi fate verificare e da cosa non fate verificare. Quindi attenzione che in un progetto, se voi avete strutture che sono nuove e strutture che non lo sono, quelle che non sono nuove bisogna che le mettete non verificare. Bene, allora, vediamo adesso, adesso non ve lo faccio vedere, però come si compone una stratigrafia? Si parte dall'interno e si va a comporre, diciamo, i vari strati di materiale. L'inserimento di questi strati di materiale è molto semplice, ad esempio, vedo, voglio aggiungere, per esempio, un mattone, lo ciclico e lo sposto, vedete? E lui me lo sposto. Quindi si lavora in questo modo qua, molto semplice, cioè non c'è niente di particolare. Adesso questo lo cancello. Per quanto riguarda invece la parte dei materiali, andiamo a vedere un attimino i materiali. Sui materiali, ad esempio, andiamo sugli intonici, cosa è importante, cosa sono i dati principali? Innanzitutto bisogna dirgli quando è un intonico, bisogna dirglielo che è un intonico, perché questo viene escluso dal calco della massa superficial, se gli dico che è un intonico. Se non lo dico, viene considerato. Poi, il tipo di dato che voi gli mettete, allora, se è un lambda, c'è conducibilità, voi gli mettete variabile, lo spessore, e gli date la conducibilità. Se invece avete la conduttanza, come ad esempio sui mattoni che viene data la conduttanza, voi gli date fisso e gli indicate conduttanza e spessore. Tutti gli altri dati, ovviamente, sono dati tecnici che dovete poi possedere. Tenete conto che anche qui avete una miriade di materiali a vostra disposizione che potete utilizzare, modificare e fare quello che un po' desiderate, diciamo. Bene, allora, adesso andiamo a dare uno sguardo all'archivio dei ponti termici. Adesso vedete che io ho un po' di pratica nel soft, quindi posso anche non andare attraverso la barra step by step, non è obbligatorio. Quindi vado direttamente attraverso gli archivi che ci sono qui. Allora, archivio dei ponti termici. Allora, vediamo un attimino che i ponti termici possono essere inseriti in tre modalità. Allora, cominciamo con la prima modalità, che se vogliamo è quella, tra virgolette, un po' più semplice. Allora, questa modalità è quella che prevede il calcolo secondo abaco. Che cos'è secondo abaco? Il Politecnico di Milano ha predisposto un abaco di calcolo con delle formule che credo che loro abbiano fatto il calcolo anche secondo gli elementi finiti, dove sostanzialmente io gli vado a dire innanzitutto che tipo di ponte termico si tratta. In questo caso qua è un ponte termico intersezione parete e copertura esterna. Io lo vado a indicare, per esempio in questo caso qua sono su una parete isolata in mezzeria con copertura isolata e trava non isolata. Quindi vedete che qua è il disegnino, ho sbagliato, devo prendere l'altra, eccolo qua, è il disegnino che è previsto dall'abaco. Tra l'altro questo abaco, se volete, potete andare nel sito e ve lo scaricate, lì ci sarà tutta la specifica che vi spiega esattamente tutta la questione. Allora, poi dopodiché gli andate a caricare la parete esterna, che è questa qui che vedete qua, e poi la trave. La trave che cos'è? È questa struttura che vedete qua, dove c'è le trave. C'è una struttura sostanzialmente di cemento armato, più l'indono che eventuale che c'è. Quindi io questa struttura l'ho già creata nell'archivio delle strutture, quindi la caricata, automaticamente vengono calcolate i K lineari, che sono questi due qua. Questa metodologia qui va bene per quanto riguarda la determinazione dei K lineari, delle trasmittanze lineari, assolutamente va bene. Però se dovete fare una verifica di condensa superficiale, questo non va bene, perché questo calcolo qui non è sufficiente. Bisognerebbe fare un passo avanti e fare il calcolo secondo elementi finiti, che è quello che vi mostrerò poi adesso. Un'altra opzione che avete a disposizione è quella di creare un ponte termico, dove voi andate a dirgli che è un ponte termico con dati note, magari gli andate a dire anche secondo specifico utente, perché voi per esempio avete dei dati che qualcuno vi ha fornito, li andate ad inserire, e quindi a questo punto qua voi vi svingolate dal calcolo, nel senso che qui il software prende quello che voi gli date. Altra possibilità, che è quella più analitica, è quella di andare a creare un ponte termico agli elementi finiti. Allora, in questo caso qua voglio creare un ponte termico parete solaio interpiano, il piano, dopodiché la categoria sarà pavimento interno, poi gli potete dare anche il colore se volete, a questo punto qui io devo fare l'input di questo ponte termico. Questo lo posso anche salvare, poi ci dovrò ritornare per caricare l'input di questo ponte termico. Allora, una premessa che voglio farvi è che il software, allora innanzitutto vi faccio vedere una cosa che non vi ho fatto vedere, allora voi il software quando in genere non presenta la barra dei comandi di AutoCAD, se volete introdurla voi andate qui sopra e gli dite mostra barra dei menu, perché questa che vedete qua, questa è la barra di AutoCAD, questi sono i componenti nostri, quelli che vedete qua sotto, queste che vedete qua sopra invece sono le, è la scheda di AutoCAD in sostanza, quindi non so, per esempio voi qua potete andare a vedere che il default dell'unità di misura di un DVG, che è quello che ho fatto caricare io, il DVG in millimetri, il DVT, e il default è in millimetri, quindi l'unità di misura che è di default del DVG è in millimetri, e non dovete cambiarlo, non c'è bisogno di cambiarlo, perché vediamo alcune volte che viene modificato questo dato, non c'è necessità di farlo. Allora, detto questo, nel software c'è la necessità di andare a definire la scala, allora, le opzioni sono due, o voi fate il disegno del ponte termico esternamente all'input grafico, potete benissimo farlo, poi ve lo portate nel vostro archivio e ve lo riprendete nel vostro progetto, oppure potete disegnare direttamente, come sto facendo io, all'interno del piano grafico, dove voi andate a disegnare l'input grafico dell'edificio, ci disegnate anche il ponte termico, questo ponte termico è disegnato con linee di CAD, quindi non è che dovete per forza mettere delle polilinee, sono linee di CAD, ovviamente queste linee di CAD devono essere tutte chiuse, io non è che posso fare un'area che non è chiusa, perché qua dentro poi io ci dovrò mettere del materiale, comunque il software mi avvertirà, se ovviamente ho fatto delle cose che non vanno. La cosa fondamentale, di importanza fondamentale, è quella di inserire la scala. Allora, questo disegno qui è stato fatto in metri, che è quello che noi consigliamo sempre, cioè noi consigliamo di inserire i riferimenti esterni o i disegni in metri, dopodiché la scala si va a impostare con questo tasto, vedete questo tasto scala, io seleziono una misura che conosco, ad esempio questa qui, lui mi dice, che questa misura corrisponde a 0,3, che cos'è? Questo sono 0,3 metri, quindi poi mi dice quanti millimetri corrispondono a 0,3 metri? Benissimo, 300, confermo, e la scala è 1 a 1000. Tra l'altro vi devo dire questo, che il default del DVG che voi aprite è sempre 1 a 1000, quindi se vogliamo dirla, diciamo, voi se fate gli input in metri, non avreste neanche bisogno di andare a impostare la scala, quindi quando voi vedete che il formato, diciamo, l'impostazione della scala, diciamo, è sempre in millimetri, anche se io non facevo questo lavoro di impostare la scala, tanto sempre in millimetri era, quindi se voi lavorate in metri, la scala potreste anche non metterla neanche, comunque voi mettetela perché per correttezza mettetela sempre. Allora, bene, adesso andiamo a caricare gli strati di materiale, andiamo nella parte thermal bridge, andiamo a fare individuo materiale, cominciamo a mettere l'intonaco, allora, mettiamo l'intonaco, infatti se volete allargati un po', questo è l'intonaco, l'intonaco e l'intonaco, poi per carità potete anche distinguerlo, poi tra l'intonaco interno e l'intonaco esterno, poi andiamo a mettere il mattone da 8, quindi questo interno da 8, poi mettiamo il mattone da 12, ovviamente questi sono tutti i materiali che io mi ritrovo già, ho dovuto già caricare, che sono i materiali delle strutture che ho utilizzato sostanzialmente. Poi andiamo a mettere il rinzaffo, che è questo qui, poi i colori potete anche cambiare, i colori dei materiali. Andiamo a mettere l'isolante, questi due qua sono gli isolanti, poi andiamo a mettere il calcestruzzo, il calcestruzzo sta qui, e poi è quello qua sopra, andiamo a mettere il blocco del solaio, che è questo, il colore, vedete, è tutto uguale, però voi potreste anche modificarlo, andiamo a mettere il sottofondo, che è questo, e poi andiamo a mettere il pavimento, che è questo qua, pavimento in ceramica, che è questo, benissimo. Quindi abbiamo composto tutta la nostra struttura, abbiamo dato l'informazione dei materiali. Adesso cosa facciamo? Andiamo a estrarre i contorni, quindi andiamo qui, selezioniamo, selezioniamo il disegno, tasto destro, adesso a questo punto qua, dopo che abbiamo estratto i contorni, andiamo ad assegnare i contorni, cioè sostanzialmente dobbiamo dirgli, ad esempio, che questo qui, tenete presente, questa è la parete esterna, questo è un solaio interpianto, quindi questo è riscaldato, e sotto è riscaldato anche, quindi questo qui è un soffitto interno, questo profilo qui, invece quest'altro qui è un pavimento interno, poi avete la parete interna, che è questa, questa è parete interna, quindi uno e due sono pareti interne, poi dovete mettere la parete esterna, l'esterna è questa che vedete qua, uno e due, vedete che io ho spezzato questa linea, l'ho spezzata perché così, adesso che metterò poi l'individuazione delle pareti, io potrò mettere l'individuazione di due pareti, perché il ponte termico ovviamente è legato al solaio, ma anche alle due pareti, quindi adesso io vado a fare individuo strutture, seleziono il lato interno, poi seleziono il lato esterno, idem per sotto, e ripeto, io questo tanto lo posso fare perché ho spezzato la linea del disegno CAD, che ho fatto, quindi l'ho spezzato più o meno in corrispondenza della metà di questo solaio, come volete voi, non è fondamentale, adesso io l'input l'avrei finito, devo andare adesso nel calcolo degli elementi finiti, devo andare nel ponte termico che avevo già predisposto, che è un ponte termico con calcolo elementi finiti, femmine elementi finiti, vado a selezionare questa geometria, la seleziono, tasto destro, lui la carica, poi posso fare anche lo zoom, non è importanza, poi dopodiché posso fare un calcolo rapido, del solo mese critico, quindi vado qui, mi calcolo solo il mese critico, che però è a posto, funziona, se voglio avere un'informazione più grande, diciamo più di tutti i mesi, faccio calcolo e faccio su tutti i mesi, ma tanto essendo quello il critico, anche gli altri saranno a posto, ovviamente qui avete il disegnino con le isoterme, diciamo dalla parte fredda, dalla parte calda, e quant'altro, poi avete un riepilogo dei risultati, vedete, muffa assente, possibilità di stampare la relazione, adesso non ve lo faccio vedere, però potete stampare la relazione, ovviamente lui vi dice, vuoi salvare il progetto, vuoi stampare la relazione, o a colori o in bianco e nero, quindi potete decidere se farlo, faccio salve e chiudi, perché devo salvare e chiudere, e poi cosa vado a fare, devo andare a dargli al software, la possibilità di fare l'estrazione automatica, perché io i ponti termici, voglio che li metta il software, poi se voglio posso anche metterli io manualmente, però mi interessa che lui lo faccia lui, per fare in modo che lo faccia lui, si va negli edifici, si va nella parte dati di progetto, e si va a caricarlo nella scheda carichi termici, il ponte termico, quindi in questo caso c'è il ponte termico, che ho creato questo, più quello di pavimento, che è questo qua, ok, e do l'ok, adesso vediamo solo se, gli ho dato il nome giusto a quell'altro ponte termico, allora, l'altro ponte termico, che io, esatto, è questo qua, adesso posso anche cambiarlo, così, parete, copertura, per non confonderlo con l'altro, parete copertura, che è quello che ho calcolato, salve e chiudi, torno di nuovo nei dati di progetto, e controllo che lui ha, vede, associato il ponte termico giusto, da questo momento, è chiaro che io poi dovrei mettere, anche tutti gli altri ponte termici, e adesso ne ho fatte vedere solo due, ma bisognerebbe metterli tutti, a titolo ad esempio, faccio vedere solo quelli, però, cosa succede, quando farò l'input, lui, il software, all'automatico, gli metterà, tutti questi ponte termici, benissimo, adesso andiamo a vedere, uno sguardo all'archivio delle finestre, archivio finestre, vedete, qui ci sono già le finestre, che ho caricato, ovviamente ci sono dei dati, che sono prettamente grafici, quindi lo del telaio, non so, i sotto finestre, i sopra finestre, ovviamente, se voi lo vedete, lo vedete solo su una questione grafica, quindi nel vostro input, non dovete differenziare la struttura, perché la struttura è uguale, io non ho un sotto finestre, o un sopra finestre, voi lasciate assente, se invece il sotto finestre è più sottile della parete, allora ovviamente glielo andate a indicare, attenzione però che, il sotto finestre, lo spessore del cassonetto e del sopra finestre, non deve essere più spesso della parete, su cui io la inserisco, delle volte ci arriva in assistenza, situazioni di questo genere qui, il sotto finestre, sopra finestre, come si dice, quant'altro, non può essere più spesso della parete, quindi attenzione anche a questa cosa, bene, dati principali sono appunto il termico, dove voi potete caricare il vetro da normativo, oppure da strutture, se avete caricato nella vostra archivostruttura, oppure da utente, glielo potete proprio mettere il valore direttamente qui, se non avete informazioni, prendete e caricate da normativo, diciamo, quindi andate qui, glielo caricate, e lui lo recepisce, poi stessa cosa sul tipo di vetrata doppia, significa che è il tipo di vetro, non che è una finestra doppia, quindi attenzione anche a questo, tipo di telaio, sempre con questo tastino qui, che è con la bacchetta magica, che entra nella tabella delle norme uni, quindi utilizzate anche queste, il cassonetto, se è isolato, se non è isolato, io ovviamente ho messo un cassonetto isolato, quindi ho scelto quello, resistenza di tapparelle, se volete, ha un'influenza sul calcolo energetico, perché di notte, magari voi chiudete le tapparelle, riuscite a mantenere maggiormente il calore, quindi ha un'influenza sul calcolo energetico, solari, quindi qui avete la possibilità di inserire, il tipo di schermatura, diciamo che, della vostra finestra, ovviamente sempre da norma, oppure gli potete mettere anche il valore voi, fisso, tipo di vetro, questo è un vetro basso emissivo, possibilità di inserire le ombre, per cui voi potete inserire delle ombre, quindi un setto a destra, un setto a sinistra, che fa ombra, quindi con la lunghezza di questa parete laterale, con la distanza, diciamo, tra il setto e il bordo della finestra, stessa cosa sui balconi eventuali, che voi potete andare ad inserire, questo tipo di impostazione ha influenza sia sul calcolo energetico, sia sulla potenza estiva, quindi ricordatevi questa cosa, per adesso non c'è, perché magari spesso mi hai fatto questa domanda, non c'è una rilevazione automatica delle ombre riportate, quindi per adesso dovete inserire in questo modo qua, poi in fase di sviluppo lo stanno prevedendo. Misure, quindi le misure della vostra finestra, e quindi questo è quello che riguarda le finestre, per quanto riguarda le porte è ancora più semplice, avete da inserire meno dati, quindi sostanzialmente le misure, la trasmittanza, che altro? Allora, mi sto guardando un attimo in promemoria, allora benissimo, adesso andiamo sulla parte relativa alle esposizioni, vedete? Allora il software è in grado in automatico di rilevare l'esposizione cardinale, perché noi adesso gli metteremo il simbolo del nord, quindi lui è in grado di sapere dove è il nord, dove è il sud e quant'altro. Quello che non è in grado di conoscere, è se io ho un pavimento sul terreno, oppure se ho un pavimento che non scambia, a questo punto qua, a questo riguardo, vi dico già che c'è già un'esposizione che il software ha in automatico, che si chiama esposizione non scambiante, quindi non la dovete creare voi, un'esposizione non scambiante, c'è già, dove voi se non volete fare l'input di quello che è il confinante di questa unità mobiliare, non lo volete fare, allora cosa fate? Voi mettiamo caso che il confinante sia un riscaldato, voi alla parete che confine gli dite che la forzate con l'esposizione non scambiate, quindi queste situazioni qua il software ovviamente non le può sapere se non gliele dite. Il pavimento sul terreno, io lo posso dare qua, parete, anzi pavimento, è parete contro terra, questo verrà utilizzato per il livello più basso che è il livello dei box, ovviamente poi qui gli darò contro terra, gli dico che è un 180 gradi di inclinazione perché è un pavimento, questo qui gli do 26 gradi perché, attenzione che questa ha un'influenza sul calcolo delle potenze estive, quindi se voi lasciate zero voi andate a creare una superficie frigorifera, quindi fate attenzione anche a questo dato, questo non influenza ovviamente il calcolo delle G10. Tipo di pavimento, gli dico che è un pavimento e pareti interrate, gli do la spunta perché voglio che lo calcoli in automatico, questo è il pavimento, gli do anche lo spessore, cioè l'altezza e la profondità di interramento, e gli do applica, e questo è quello che riguarda diciamo le esposizioni. Adesso andiamo a vedere un attimino le zone, anche qui io le zone le ho già create, vedete, ho creato sostanzialmente, perché qui ci sono sei unità mobiliari, abbiamo un piano semi-interrato, terra, primo, secondo, due unità mobiliari speculari rispetto alla scala, con rispettivi box e cantine, quindi ecco io per ogni unità mobiliare, ho semplicemente inserito i locali non riscaldati box e cantine, che sono ovviamente di pertinenza dell'unità mobiliare, una zona comune per la scala, diciamo che non è di strettamente di proprietà del singolo condomino, come vedete nel caso che ci siano più unità mobiliari, bisogna fare più, come si dice, non bisogna fare un'unica unità mobiliare, ma tante unità mobiliari, abbiamo visto alcune volte purtroppo che in situazione di chiaramente di più proprietà, quindi un edificio con più unità mobiliari, qualcuno magari mette un'unica unità mobiliare con più zona, quello è sbagliato, perché sostanzialmente voi così andate a sbagliare il calcolo dei carichi interni, il calcolo dell'acqua calda sanitaria, quindi l'unità mobiliare rappresenta la proprietà, quindi se voi avete un ospedale, è chiaro che voi fate un'unica unità mobiliare, se voi avete un palazzo con abitazione, ci saranno diverse proprietà, voi fate tante unità mobiliare, che poi questa sia servita da un centralizzato, o da un impianto autonomo, questa è un'altra questione, quindi come si fa a creare una unità mobiliare? Molto semplice la posso creare, qui posso dargli poi il nome, sotto di questa unità mobiliare, poi gli vado a dare la zona, quello che è importante è che gli vado a dare la categoria, perché ovviamente se è un'abitazione, se è un ufficio, quant'altro cambiano le verifiche, anche la zona è importante, gli devo dire se è un riscaldato, è nel dire che è riscaldato, attenzione che voi potete calcolare in questo modo, non solo l'energia in riscaldamento, stiamo parlando di energia, ma potete calcolare anche l'energia in raffrescamento, quindi non è che per calcolare l'energia in raffrescamento, dovete per forza mettere il climatizzato, questo stiamo parlando di energia, quindi non di potenza, come potenza sì, se voi che volete calcolare, scusate, l'estivo, dovete metterlo qui, climatizzato, bene, questo lo cancelliamo, tanto non ci interessa, abbiamo solo visto per, altra possibilità è poter copiare, per esempio, lei e voi avete una miriade di unità immobiliare e zone, perfetto, voi andate qui, tasto destro, copia singola, evitate il nome della copia, oppure, andate qui, questo qua, ho chiuso un attimo la maschera, poi potete riaprire, tasto destro, copia multipla, quindi voi qui potete dire, voglio 500 unità immobiliare, tutte fatte allo stesso modo, perfetto, lo potete fare, quindi, queste sono le agevolazioni, che noi vi andiamo a dare, ovviamente qua ci sono i dati catastali, tutti i dati che, ovviamente possono riguardare, i vari moduli, che voi andate ad utilizzare, benissimo, adesso andiamo a creare, l'elenco dei piani, nell'elenco dei piani, io vi vado a creare, il piano terra, cominciamo col piano terra, a questo piano terra, gli vado a dare l'altezza del piano, in questo caso 3 metri, gli vado a dare il solaio, quindi il soffitto, che io ho già creato, il pavimento, il pavimento interpiano, eccolo qua, il pavimento interpiano, perché glielo lo devo specificare bene? Perché il coefficiente eliminato del soffitto, non è uguale ai coefficienti eliminati del pavimento, quindi dovreste sempre specificarlo, la differenza, è chiaro che poi se non ho uno scambio, poco importo, però se avete uno scambio, è importante dare i coefficienti eliminati giusti, tutto il resto lo lascio invariato, do un'applica, do ok, e quindi ho creato il piano, vedete che nel momento in cui creo il piano, si genera un, questo rimane tale, poi c'è una scheda qui da TSS, che adesso non vediamo ancora compilato, dove si possono fare dei modifichi, e interessante è che voi qui avete la possibilità di accendere e spegnere i layer, quindi quando voi fate un input grafico, non dovreste disegnare direttamente sulle piante, è sbagliato, perché se voi lo fate, voi poi come fate a spegnere quelle piante lì? Non potete spegnere, invece se voi le inserite come riferimento esterno, come vi farò vedere, potete spegnele semplicemente togliendo questo tasto qui, questa è un'altra cosa che vi voglio dire, che è importante, quando io ho creato il piano, vi faccio solo vedere, io gli ho detto calcolato, calcolato, gli ho lasciato, perché se io metto calcolato, lui il software è in autonomia di vedere cosa c'è sopra e cosa c'è sotto, se lui vede sopra che c'è un altro piano, lui automaticamente sa che è riscaldato, quindi non dovete dire al confine, quindi al solaio, non dovete dargli non scambiando, non c'è bisogno, perché anche questo ci è capitato, anche ci capita di vedere, quindi quando c'è un piano sopra, un piano sotto, lasciate calcolato, a meno che voi poi questo non lo disegnate, se voi non disegnate il piano di sopra, allora d'accordo, li mettete non scambiando, se sopra è riscaldato, benissimo, adesso andiamo a, diciamo innanzitutto, andiamo a vedere, come l'ho fatto già vedere prima, l'unità di misura, quindi strumenti, formato, unità di misura, abbiamo detto che è in millimetri, la scala l'abbiamo già messa, perché l'abbiamo messa per, come si dice, per i ponti termici, adesso andiamo a caricare, anzi prima di caricare vi faccio vedere che non è poi indispensabile per forza avere il riferimento esterno, perché voi potreste, allora alla base di quello che vi ho detto, cioè che il disegno, se va lasciate le cose come sono, cioè non modificate l'unità di misura che è in millimetri, e lasciate in default una mille, voi potete disegnare in modo libero, delle pareti con lunghezza in metri, quindi ad esempio, io voglio disegnare un quadrato, non so, un rettangolo, con questa parete qui, voglio partire dal punto 1,1, perché vi ricordo che, bisognerebbe fare il disegno vicino all'origine cartesiana, quindi non distante all'origine cartesiana, quindi a questo punto qua, io gli vado a dare che, 10 metri, poi gli vado a dire 5 metri, vedete, coordinate polari, quindi io gli do la direzione e poi scrivo sotto la misura, 10 metri, e poi lo vado a chiudere, così, e io ho già, diciamo, disegnato l'input in maniera libera, se invece però, perché è meglio avere il riferimento esterno, benissimo, voi andate qui dentro, caricate il riferimento esterno del piano terra, non gli mettete la spunta specifica sul disegno, perché lui così assume le stesse impostazioni del riferimento esterno che avete disegnato, e lui viene piazzato. Adesso vi faccio vedere solo il riferimento esterno, come l'ho fatto, perché altrimenti, allora, andiamo sul riferimento esterno del piano terra, il riferimento esterno del piano terra, se voi vedete bene, io l'ho fatto vicino all'origine cartesiana, questa è l'origine cartesiana, noi ci arrivano delle volte dei disegni che sono messi a distanze siderali dall'origine cartesiana, voi vi dovete ricordare che questo è un ambiente autocad, quindi non è detto che poi, lavorando a distanze enormi dall'origine cartesiana, poi vada tutto bene, quindi il consiglio che vi do è, innanzitutto ripulire il disegno, dai retini, da tutto quello che c'è di pasticciato, perché alcune volte che succede che i disegni che vi arrivano non visualizzano solo questo, dentro ci sono dei layer che sono spenti, che magari ci sono una miriade di cose, io potrei avere un disegno qui è un qualcosa disegnato a tre chilometri di distanza, quando il software vede, anche se voi l'avete spento quella cosa a tre chilometri di distanza, il software lo vede sempre, quando voi fate il doppio clic, lui fa così, non vedete più nulla, quindi attenzione anche a quello, se volete essere sicuri di aver fatto un disegno pulito, benissimo, poi lasciate solo quello che vi interessa, come layer, spegnete tutto quello che non vi interessa, fate un nuovo file, così, dopodiché andate qui, seleziona, copio con punto base, 0,0 ad esempio, andate sul nuovo disegno, incolla, coordinate, le coordinate di prima, quindi voi l'andate a copiare, in questo modo qua, voi avete un vantaggio, perché voi qui andate a mettere soltanto i disegni, tutte le porcherie che ci sono nei layer spendi, non le vedete, quindi questa è un'altra cosa importante che mi premeva farvi vedere, un'altra cosa importante, a parte allineamento, a parte il posizionamento vicino all'origine, anche allineamento dei piani, quindi io questo, questo che vedete qua, è allineato con gli altri piani, perché io devo avere l'allineamento, altrimenti ho degli sfalsamenti, per cui poi avrete gli scambi che non sono corretti, il disegno in metri, quindi qui voi vedete che qua c'è il tasto per poter misurare, questo è in metri, io vado qui, misuro 0,8, sono metri, quindi questo vuol dire quello che ho già detto prima, usate i riferimenti esterni in metri, se non sono in metri, non c'è problema, ve li scalate, e li portate in metri, benissimo, ecco un'altra cosa importante è che dimenticavo, se il disegno è lontano, bene, non c'è nessun problema, allora voi andate qua, sposta, gli date le coordinate, chiedo 50,50, adesso lo sto spostando, non lo sto portando nelle origini, però voi lo prendete e lo spostate, no? E lo spostate, boh, quindi lavorate anche in questo modo, se il disegno è lontano lo potete benissimo riportare alle condizioni vicino all'origine cartesiana. bene, adesso, per la scala, ve la ripeto di nuovo, ma tanto non c'è bisogno di farlo, allora, per la scala voi andate qui e andate a prendere una misura conosciuta, lui vi dirà quanto corrisponde questa direte 800 e esce fuori sempre una 1000, insomma la stessa cosa, diciamo che il, avendo già definito la scala sul ponte termico, non c'è più bisogno di definirla sull'input grafico, posizioniamo il nord così, oppure potete anche mettere l'inglinato, togliete l'orto qua, potete mettere anche l'inglinato, non è nessun problema, no? Benissimo, adesso andiamo a disegnare il, le pareti, quindi andiamo nelle pareti, le pareti potete disegnarle innanzitutto la selezionate di qua, in modo libero potete disegnare, così, oppure potete anche utilizzare questa cosa che adesso vi faccio vedere, c'è il, la possibilità di trasformare la linea del, diciamo CAD in parete, vedete, e ve la faccio, ve la trasforma, diciamo, questa qui, poi andiamo a fare un raccordo per poter praticamente aggiustare le cose, ecco adesso vedete che io riesco a spegnere l'input, cioè l'input, il riferimento esterno, adesso faccio con raccordi, raccordo con raggio zero, vado a selezionare questo, poi invio per confermare di nuovo il comando, invio di nuovo, si riconverme il comando, invio, e via discorrendo, questo lo cancello, ritorno ad accendere l'input, poi continuo, faccio di nuovo trasforma linea, in questo caso qua, ecco, qui diciamo che ho sbagliato perché qui questo è un divisorio quindi devo fare trasforma linea in divisorio, vado a settare la parete, parete verso scala, vedete lui vi da l'andeprima e voi poi confermate, adesso qua andiamo a disegnare la parete qui, possiamo fare questo, anzi, questa parete qua non è, è una parete esterna, quindi faccio parete, parete esterna, e poi andiamo a fare, ecco, vedete anche un'altra potenzialità, qual è che voi qua potete fare questo lavoro qua, poi viene spezzata la parete, no? Ecco qua, a questo punto qua, perché io quel che vi voglio far vedere poi è lo specchio, questo poi lo raccordiamo, questi li eliminiamo perché non servono, adesso riaccendiamo questo, adesso andiamo a, questo dobbiamo ancora raccordarlo, esatto, andiamo adesso ad inserire qualche divisorio, adesso non è che inserisco tutto, divisorio, diciamo, interno da 10, adesso per esempio inseriamo questo, questo, questo qui, guanzeriamo questo, quest'altro, e adesso li raccordiamo, adesso li raccordiamo, facciamo di nuovo il raccordo, perfetto, adesso io qua, intenzionalmente, non lo collego, perché voglio mostrarvi poi la, come si dice, la potenzialità del software nell'individuare poi se ci sono delle anomalie, diciamo, poi su questo qui voi andate ad inserire anche la parete, la porta, quindi porta d'ingresso, cliccate e vi andate a dare la porta, dovreste mettere anche le porti interne, quindi andiamo a dargli anche le porti interne, porti interne, per esempio questa, perché ovviamente la porta interna, qui c'è una superficie da considerare, la superficie utile, no? poi gli andiamo a dare le finestre, andiamo a dargli anche le finestre, alcune finestre, adesso non è che le metto tutte, quindi mettiamo questa, ad esempio, mettiamo quest'altra, mettiamo anche questa, e mettiamo anche l'altra finestra, che è questa qui, questa più grande, per ragione di tempo, adesso io non è che sto a farvi vedere tutto l'input, allora abbiamo messo tutto, adesso possiamo provare a fare lo specchio, quindi adesso andiamo a fare la selezione, qui, tasto destro, anzi no, edita specchio, che è questo qui, gli dico il punto medio che è questo, continuo così, e gli do la conferma, è chiaro che io questo lavoro qua, potevo farlo anche con gli ambienti, sarebbe stato meglio, anzi facciamolo con gli ambienti, che è meglio, allora inseriamo gli ambienti, qualche ambiente, allora, default degli ambienti, lasciate anche da piano, non ha importanza, volendo potreste cambiarlo, qui gli date la zona, per esempio la zona 1, andiamo ad inserire i vari ambienti, quindi questo qui e questo qui, allora vedete che il controller soft è tale, che vi dice attenzione, c'è qualcosa che non va, allora innanzitutto, andiamo a spegnere il, come si dice, il tridimensionale, questa è una parete in più, che devo togliere, che non serve, questo è ambiente non chiuso, perché? Perché qui, c'è, diciamo che, dovreste collegare questo, poi collegato questo, bisogna andare a, collegare quest'altro, diciamo, perché, perché, sostanzialmente, questo qui, non è, non era collegato, adesso, vedete che, è tutto a posto, quando si genera il 3D, vuol dire che, già, è una, è una cosa positiva, nel senso che, siete riusciti a fare un input, in modo, in modo corretto, adesso, vediamo lo specchio, quindi, abbiamo detto, selezioniamo questo, edita, specchio, punto, diciamo, medio, e lui vi genera, lo specchio, di quella, di quella loggia, poi lo vado a congiungere, questo, lo collego, vado a collegare, anche, questa parete, poi gli vado a mettere, l'ambiente, quindi gli vado a mettere, l'ambiente non climatizzato, che, qua posso anche dirglielo, scala, non è nessun problema, poi gli vado a selezionare, nelle zone comuni, la scala, la inserisco, e sono riuscito a fare, anche questo, quando avete finito, lettura, disegno, e aggiorno frontiere, vedete il 3D, che viene generato, con i ponti termici, che sono stati anche inseriti, ovviamente, bene, adesso, vediamo un attimino, questi ponti termici, possiamo anche togliere, per adesso, non ci servono, adesso, andiamo a vedere, come, una volta fatto questo, possiamo vedere, praticamente, la possibilità, di fare delle copie, di questo piano, questa è una linea, che posso pure cancellare, allora, io vado nell'elenco dei piani, abbiamo detto, che ho il piano terra, piano primo, piano secondo, e piano semiderato, benissimo, metto qui, faccio copia, gli, gli vado a dire, di fare due copie, perché voglio fare, piano primo, e piano secondo, e gli do ok, e gli do applica, quindi, adesso, vedete, che io qua, sono riuscito, torniamo di nuovo, però, all'elenco piani, perché, questo lo posso chiamare, piano primo, e questo lo posso chiamare, piano secondo, applica, poi posso creare, anche il piano, il piano di sotto, quindi faccio copia, prima del piano terra, quindi, prima del piano terra, voglio che si crei, quest'altro piano, che è il piano semiderato, ho sbagliato, scusate, allora, mi posiziono qui, copia, allora, abbiamo detto, prima del piano terra, e gli do l'ok, no, ho sbagliato di nuovo, vediamo, vediamo, allora, copia, allora, aggiungi, ecco, non ho sbagliato io, aggiungi all'ultimo, devo cambiare, perché qua devo mettere prima, del piano terra, e gli do l'ok, eccolo qua, semi interrato, e sei interrato, ovviamente, nel semi interrato, e qui, gli devo mettere la copertura, no, quindi gli vado a dare, la copertura esterna, questa qua, qui gli vado a dare, la struttura del pavimento, sul terreno, con l'esposizione, che gli ho creato prima, se io non gliela do l'esposizione, vuol dire che poi, non viene considerato esterno, perfetto, adesso, andiamo a vedere, nel piano superiore, che cosa c'è, nel piano superiore, ovviamente, c'ho una ripetizione, dell'input, che avevo fatto prima, se ho da fare, delle modifiche, le farò, se io carico, l'altro riferimento esterno, vediamo, vediamo che effettivamente, ci sono delle modifiche da fare, vedete che ci sono, delle modifiche da fare, perché qui abbiamo, che la scala è diversa, poi ci sono, delle divisioni diverse, insomma, è da sistemare, però ecco, avete almeno una base, su cui, fare poi, le eventuali, modifiche, diciamo, un'altra cosa, che voi, poi dovreste fare, è modificare, come si dice, la zona, quindi la zona, voi o la modificate, selezionando, poi fate tasto destro, dati estesi, e gliela modificate qui, quindi andate sulla zona 2, e gliela modificate, quindi questa è la prima possibilità, oppure anche potete fare, in un altro modo, quest'altro modo, consiste nell'andare, in questo, in questo tasto, associazione, voi gli andate a, andate a selezionare, il piano da modificare, quindi in questo caso, siamo, siamo sul piano, sul piano primo, quindi vedete qua, siamo sul piano primo, poi gli vado a dare, la zona da inserire, quindi in questo caso, sono la, sul piano primo, sono la, è la, è la tre, è la zona, la zona Z3, perché ne abbiamo, a1, a2, al piano terra, poi a3, a4, e via discorrendo, quindi devo inserire, la zona 3, che è questa, vedete qua, allora poi gli vado a dire, dove la devo inserire, questa zona 3, quindi gliela vado a dare qui, faccio salva, poi faccio lettura e disegno, quando vado a vedere sul piano primo, questo qui, assuma la zona 3, questo ovviamente, è una potenzialità offerta, quando avete un edificio, che è molto grande, quindi un edificio molto grande, avete, questo onere, poi su seminterrato, che cos'è che, bisogna fare su seminterrato, innanzitutto, andrebbero cancellate le finestre, perché qua, è un controterra, allora, qui io ve lo faccio vedere, solo su una parte di parete, poi, vi aprirò il disegno, già fatto, però questa parete qui, se voi non glielo dite, isoft cosa fa, la considera esterna, invece voi, dovete considerare, abbiamo detto, che questa è una parete, che per due metri, è controterra, quindi, parete e controterra, con esposizione, abbiamo detto, che questa qui, parete e pavimento e controterra, quindi, ricordatevi che, l'esposizione di tipo, parete e pavimento e controterra, va messa, non solo sul pavimento, questo l'ho fatto in elenco piano, ma anche sulla parete, questo è anche importante, conoscerlo, altezza di metri, perché ovviamente, due metri, il resto, è una, quello che fu riesce, è una parete, quella, quella, in poco, l'altezza che bisogna inserire, sarà il calcolo, in automatico, e poi faccio applica, a questo punto qua, faccio le tue, il segno, il giorno frontiere, quello, va fatto, serve alla fine del limite, io vado a selezionare, il piano, vedete, lui, siccome l'avevo fatta verde, quella parete contro terra, l'altra di colore così, vedete che lui, ha fatto effettivamente, due strati, ricordatevi che, volendo, potreste fare tre strati, addirittura, no? Quindi, questa è la cosa, che potete fare, un'altra cosa importante, che non vi ho detto, che adesso vi mostro, perché, diciamo che, ponti termici, ce n'è, ce n'è tanti, uno dei ponti termici, che bisognerebbe mettere, è quello dei ponti termici, di balcone, allora, per mettere il ponti termici, di balcone, a parte il crearlo, quindi con le due modalità, quindi, o di abaco, o fisso, se volete, se conoscete il dato, oppure, con gli elementi finiti, voi, per sapere, dov'è il ponti termici, dovete dargli il balcone, quindi andate qua, trasforma linee in divisorio, divisori, e gli andate a dare, praticamente, il parapetto del balcone, insomma, in sostanza, gli andate a dare, quindi, poi, glielo andate a raccordare, questo, lo raccordate, sempre con invio, raccordate anche questo, quindi, un profilo chiuso, anche questo, poi, dovete inserire, il simbolo di balcone, che è questo, e poi, un'altra cosa, interessante che potete fare, ma questa è solo una cosa grafica, gli potete, addirittura, dire, l'altezza, così, del, del bordo, no? Quindi, qui, gli date l'altezza, che ne so, un metro, la ringhiera, di un metro, per dire. Allora, che succede qua, che quando voi fate la lettura di segno, a giorno frontiere, poi, ovviamente, lui terrà conto di questo balcone, per i ponti termici, quindi, se voi avete inserito il ponti termico di balcone, lui lo va a individuare, in questo modo qua, che altrimenti non potrebbe individuarlo, e il, il disegno, ovviamente, presenterà poi il balcone, con il, il parapetto, insomma, quello che è. Vi ricordo che, questo balcone, non, ribadendo i discorsi, che per adesso, non facciamo il riporto delle ombre, non facciamo il calcolo automatico delle ombre riportate, quindi non è che mettendo il balcone, io poi riesco a calcolare l'ombra che fa sotto, no, per adesso no, bisogna andargli a definire, nelle esposizioni delle pareti, o nelle finestre. Bene, il discorso quindi, di poter poi, ecco, questa è poi l'introduzione, che, di cosa significa, avere le barre laterali, no, le barre laterali, sono, non è una, un qualcosa di, eh, nostro, diciamo, di, scusate, di del CAD, questa è una cosa che abbiamo fatto noi, MC4, qui c'è la possibilità di controllare, i, i layer, quindi io posso anche dire, mo, spegnimi i soffitti, ad esempio, non so, se io mi metto in 3D, qui, accendo, io posso dire anche, spegnimi i soffitti, fammi vedere cosa c'è dentro, no, oppure spegni il pavimento, eh, togli le etichette, togli il riferimento esterno, tutto fatto in un modo, che tale, che voi non dovete andare qua dentro a lavorare, perché, se a voi andate qua dentro, e per caso spegnete dei layer, dei layer nostri, di MC4, voi potreste bloccare il calcolo, o creare delle problematiche, quindi, eh, se sono, eh, componenti di AutoCAD, fate pure tutto quello che volete, sui layer, se sono componenti MC4, lavorate con le barre laterali, non andate nei layer, a spegnere, quindi significa, lavorate con riferimento esterno, bene, adesso, eh, chiudo questo file, perché, per raggio di tempo, ovviamente, voi capite che non posso andare, a fare il dettaglio di, di tutto, aprirò il file, eh, un file che ho già preparato, già fatto, che è questo, ecco che vedete qua, eccolo qui, sostanzialmente, poi ho inserito anche dei portoni, dei box, ho definito i balconi, e quant'altro, quello che vi voglio far notare, è che voi qui avete un, da questo lato qua, avete un, praticamente, un pavimento esterno, vedete, e qua c'è un soffitto esterno, allora il software, da solo se ne accorge, di questa, di questa situazione, perché quando voi fate letture di segno, e aggiornano frontiere, il software, eh, vi fa, vi fa vedere questo, allora, innanzitutto, eh, vi voglio far, far capire i controlli che bisogna fare, perché questo è importante, perché io ho fatto l'input, ma chi dice che l'input sia corretto, no? Allora, un primo controllo è quello visivo, allora, voi quando avete finito, voi vi controllate il vostro input, ovviamente dovete accendere il tridimensionale, poi andate qui, vedete che qui sulla, sulla parte auto, gli date l'ombreggiatura, e voi cominciate il vostro controllo visivo, no? Questo è giusto, è sbagliato, le finestre sono giuste, sono sbagliate, boh, questo controllo qui. Poi, eh, secondo controllo, anzi, in realtà questo dovrebbe essere il primo controllo che dovete fare, quando andate in pianta, questo poi potete anche togliere, gli ambienti, così vedete bene, il, l'intersezione del divisorio con le pareti, deve essere fatta in questo modo qua, con una sorta di, di prisma, eccetera, no? Quindi se voi vedete cose strane, qui, qui dentro, o cose che non vanno, diciamo già, dovete allarmarvi. Quindi questo è un altro controllo che potete fare. Ultimo controllo finale dell'input grafico, che direi che è fondamentale anche, è quello delle frontiere scambianti. E questo lo fate piano per piano. Allora, voi vi posizionate sul primo livello, e vedete, e dite, che cosa significa questo colore qui, viola? Significa che voi avete un'esposizione forzata, e infatti è vero, perché qui io gli ho messo il pavimento contro terra. Poi questo blu che cos'è? È esterno. Infatti c'è una porzione di soffitto che è esterno, qua, come anche qua dietro. Questo che cos'è? Perché sopra c'è un locale riscaldato, invece questo non è riscaldato. Quindi ecco perché. Allora, andiamo al piano superiore, ad esempio. Piano superiore. Qui perché è così? Perché io sopra ho delle zone diverse. Quindi ho dei, diciamo, ambienti differenti, no? Qui sotto, perché è così? Stessa cosa, perché sotto ci sono dei locali non riscaldati, il resto è blu. Quindi voi ve lo guardate, vedete se ci sono delle cose che non vanno. Se capita che per esempio che voi qua non vedete blu, vedete che c'è un buco nella frontiera, attenzione, allarmatevi, c'è qualcosa che non va nel vostro input, quindi correggetelo. Quindi questo lavoro qua va fatto piano per piano e poi ovviamente lo visualizzate tutto. Bene. Altra cosa che vi voglio dire è che, adesso andiamo a spegnere questo, anzi accendiamo il tridimensionale. Un'altra cosa importante è questa. Questa parete qui che vedete qua, io posso, alcune volte, si fanno questi lavori, lo vediamo in assistenza, quindi per quello che ve lo sto dicendo. Questo lavoro qua. Questo lavoro qua non è corretto, perché in assoluto non esiste neanche nella realtà che un divisore non abbia una base di appoggio. Quindi in più, il software, questa parte qui, lui non sa che cos'è, non capisce più che cos'è questa. Quindi potrebbe considerarvela esterna. Quindi attenzione anche a questo. Un'altra cosa, evitate di disegnare in modo, come si dice, se questa è una verticale, io non posso disegnare così, aspetti che vedete, allora vedete, sulla parete. Immaginate che io mi metto qui e vado a disegnare, tolgo l'orto e faccio una parete così, proprio di un'inclinazione proprio quasi infinitesimale, no, vedete? Questo può succedere anche non intenzionalmente, voi non è che lo fate apposto, voi magari ripassate un disegno che va arriva, che è fatto male, che quindi è storto, c'ha delle linee delle pareti inclinate, eccetera, però questo non vuol dire che voi dovete per forza usare quello, cioè voi potete liberamente disegnare con le vostre linee in modo corretto. Quando sono pareti verticali o orizzontali, usate l'orto, quando non lo sono, devono avere un'inclinazione ben definita, altrimenti non serve andarlo a fare. Bene, altra cosa, ma questo ve l'ho già detto, il sotto finestra, il sopra finestra, ovviamente non deve essere più grande della finestra, ci arrivano delle volte dei disegni dove noi abbiamo qui, in corrispondenza di questa finestra, abbiamo una roba di questo tipo, non va bene, perché questo input non è fatto in modo corretto. bene, sto guardando un attimo le cose che vi devo ancora far vedere, allora, chiaramente, chiaramente, diciamo che qui, essendo che, voi ecco, anche la potenziale del sopra, voi volete vedere, rimanere nel piano primo, quindi, io adesso con questa freccia, ho attivato il piano primo, quindi io sto facendo l'input sul piano primo, però voglio vedere cosa c'è sotto, benissimo, io vado ad accendere la lambadina di quello che c'è sotto, allora, io così vedo che c'è una porzione di questo pavimento che è esterno, poi il collega magari avrà modo di farvelo vedere, in questi casi, bisognerebbe distinguere, perché io così come ho fatto, lui cosa fa? Prende il solaio interpiano che ha dei coefficienti liminari differenti, e lo utilizza come trasmittanza anche come pavimento esterno, in realtà dovreste differenziarlo, voi dovreste creare il pavimento esterno e il soffitto esterno, perché hanno delle, dei coefficienti liminari diversi, quindi trasmettanza diversa, e dovreste definire il cosiddetto ambiente aggregato, che poi magari il collega poi avrà modo di farvi vedere, benissimo, altra cosa che voi potete fare, io adesso apro un file, che ho già, diciamo, caricato, che è questo, dove voi, questo è un file vuoto ovviamente, dove voi potete, non è detto che avete per forza un riferimento esterno, voi potete avere pure un pdf, non so, un'immagine, allora in questo caso qua cosa faccio? io, guardate, adesso vi faccio vedere solo l'immagine che vi voglio caricare, allora, riporto solo questo di qua, allora, vediamo un po' su D, io voglio caricare quest'immagine che adesso vi faccio vedere, eccola qua, pdf, ecco qui, questa è l'immagine che vi voglio caricare, è un'immagine pdf, quindi non è un, come si dice, non è un dvg, questo qui, allora cosa faccio io? lo voglio caricare questo, benissimo, mi metto qua sul disegno, ovviamente il disegno è vuoto, quindi con il stesso modo, come abbiamo visto prima, si carica la località, si fa il piano, e quant'altro, nei momenti in cui ho fatto il piano, io vado a caricare, perché qua anche c'è un piano, vado a caricare il pdf, il pdf è questo, lo vado a selezionare, vedete, e gli do l'ok, faccio lo zoom, e questo qua diventa, la mia base di calco, questo tra l'altro è interessante, perché questo non è più un pdf, diventa una sorta di, come si dice, disegno vettoriale, quindi su questo, voi potete tracciare, le vostre linee, così come vi ho fatto già vedere, non cambia nulla, stessa cosa, se avete un'immagine, ovviamente in modo differente, però, la sostanza, la cosa è quella, chiudiamo questo, adesso vi faccio vedere, un'altra cosa in più, se voi avete un pdf, c'è un pdf, c'è un qualcosa che viene creato, da un software bim, allora voi cosa potete fare, potete creare innanzitutto, un nuovo file, faccio un nuovo file, vado ad importarmi, anche qui dovrò mettere la località, e quant'altro, vado nella scheda edificio bim, vado a caricare, vado a fare importa ifc, allora, importa ifc, vado a dargli il percorso, il percorso si trova, lo vediamo un po', qua su d, devo andare dove ho messo l'ifc, che è questo qui, lo vado a caricare, do ok, e lui mi caricherà questo modello, questa base di calcolo, una piandina però, che non è una piandina fatta in autocad, ma è una piandina che deriva da un ifc, una volta che finisce il caricamento, eccolo qua, io praticamente mi ritrovo i piani, ovviamente sono già insiti nell'ifc, l'ifc c'è già i piani, però questo vuol dire che io qua sopra, posso fare le stesse cose, che vi ho fatto vedere prima, non cambio possibilmente nulla, non mi posso fare il mio input, così come ho fatto nel, in quello che vi ho fatto vedere prima. Bene, credo di aver detto tutto, su questa parte che, premeva farvi vedere, ultima cosa, adesso che mi viene in mente, una cosa puramente logica, grafica vostra, diciamo, qua voi potreste, no, devo andare su questo, quello, devo andare su questo, voi, da punto di vista grafico, voi potreste anche dire, vabbè, io voglio che, se voi vi posizionate qui, vedete che il soft, vi fa una sorta di, come si dice, di piantina, diciamo, che vi fa vedere, ecco, quello che io, non vi ho fatto vedere, che voi volendo, potreste modificare la quota dell'edificio, vedete, io ho messo meno 231, perché ho messo meno 231? Perché effettivamente, questo è un semi interrato, no, quindi vedete così, che io ho il piano terra, che inizio dall'intradosso, inizia un metro, questa è una questione grafica, solo vostra, non solo, questa non è anche, solo una questione grafica, anche a livello impiantistico, che se voi andate a disegnare una tubazione, adesso questo, è sulla da questo, da questo corso, però voi, in questo modo qua, voi lavorate con questa quota qui giusta, non cambia nulla, potreste benissimo lasciare la quota dell'edificio a zero, non vi cambia nulla, però, se volete, vi piace fare in questo modo qua, potete benissimo farlo, a livello del, della visualizzazione grafica, non cambia nulla, direi, benissimo, allora, io avrei concluso la mia parte del corso, adesso vi lascerò, diciamo, vi lascerò la parola al mio collega, l'ingegnere Broccardo, ci risentiamo poi alla fine del suo intervento, per la risposta alle vostre, alle domande che avete posto. Riprendiamo, quindi, il discorso, sempre, del nostro input grafico, in questo caso andiamo a colmare, diciamo, le parti che abbiamo, per forza di cose, lasciato alla seconda parte del webinar, in particolare, vediamo come in un edificio sia possibile realizzare nell'input delle porzioni di ambiente differenziate, ad esempio per quanto riguarda i soffitti o i pavimenti, il collega qualche minuto fa vi ha illustrato la situazione che prendeva in esame, ad esempio, la porzione di edificio posta al piano primo, dove era presente una parte che è aggettante rispetto al piano terra, che invece è arretrato, quindi la porzione in sostanza che adesso io nel disegno vi faccio vedere ruotandola, quindi questa porzione che appunto è da differenziarsi rispetto alla porzione diciamo che invece scambia con gli ambienti circostanti e alla stessa maniera capita la stessa cosa se dobbiamo visualizzare la situazione invece della parte del piano interrato, quindi anche al piano interrato possiamo avere una situazione in cui c'è una porzione di edificio che ha un soffitto in questo caso che è da differenziarsi rispetto alla porzione di soffitto che invece non scambia. Allora, per modificare l'input grafico in modo tale da riuscire a differenziare i soffitti e i pavimenti in maniera opportuna occorre utilizzare una funzionalità che il mio collega vi ha già anticipato come diciamo descrizione cioè la funzionalità dell'ambiente aggregato. Allora, questa funzionalità si definisce andando a inserire un ambiente opportunamente descritto in modo tale da poter appunto differenziare un ambiente preesistente in due porzioni di ambiente appunto una è la porzione principale dell'ambiente principale e un'altra la porzione dell'ambiente aggregato in modo tale che nello stesso ambiente si possano differenziare ad esempio quindi una funzione che prevede l'ambiente aggregato si possono differenziare i soffitti o i pavimenti. Allora, nel nostro caso quindi appena interrato abbiamo due ambienti in questo caso sono due cantine che hanno appunto come soffitti una definizione di soffitto lo vediamo subito che è stato definito da piano quindi da piano ha un soffitto la cantina che è appunto un soffitto definito come soffitto interpiano allora se questo soffitto interpiano che presumibilmente è un soffitto interno deve essere differenziato allora entriamo nell'archivio strutture il soffitto interpiano che è questo è una struttura che appunto è come tipo struttura un soffitto interno io lo differenzio lo ne faccio ad esempio la copia e lo chiamiamo soffitto esterno quindi formalmente io non lo modifico dal punto di vista della stratigrafia ma chiaramente sarà possibile ovviamente anche definirlo in maniera opportuna quindi ad esempio aggiungendo l'isolamento o quant'altro io adesso per brevità per sintesi non modifico la stratigrafia ne modifico solo il colore in modo tale da renderlo evidente e quindi non lasciare il colore giallino che abbiamo messo nel nel caso appunto del soffitto interpiano quindi il soffitto interpiano sarà di colore giallo il soffitto esterno che io ho definito come soffitto esterno 2 lo coloriamo di verde in modo tale da differenziarlo rispetto alla struttura che è esistente nella cantina allora come facciamo per differenziare la porzione appunto che è esterna dalla porzione interna beh innanzitutto dobbiamo accendere anche il piano terra in modo tale da vedere qual è la porzione appunto che sborda rispetto al piano terra appunto il piano terra ha questa sagoma quindi una sagoma di edificio che corrisponde a questa parete esterna e questa sagoma è appunto da sagomare per quanto riguarda il piano terra in modo tale da far sì che il piano terra segua appunto questo percorso allora per fare in modo da sagomare correttamente il nostro la nostra cantina allora andremo a tracciare al piano interrato la sagoma della parete esterna che c'è al piano terra come facciamo per fare questa operazione allora per fare questa operazione noi attiviamo il piano interrato perché è il piano di lavoro ma visualizzeremo anche il piano terra in modo tale da poter sagomare effettivamente la porzione al piano terra che ci interessa quindi tracceremo disegneremo al piano interrato che è il piano attivo una parete opaca io per esempio ipotizzo che sia un divisore da 10 partendo da questo punto e sagomando il mio piano interrato in maniera adeguata quindi se vado al piano interrato ho tracciato appunto queste mie pareti che costituiranno appunto la sagoma dell'edificio che dovrà essere in qualche modo separato rispetto alla appunto alle cantine esistenti volendo c'è anche la possibilità di usare non solo la funzione di parete opaca ma se volete si può usare anche la parete fittizia diciamo che è equivalente dal punto di vista in questo caso dell'ambiente aggregato in quanto l'ambiente aggregato farà sparire poi questa parete tridimensionale e farà in modo appunto di creare una semplicemente una suddivisione per quanto riguarda soffitti e pavimenti ma non farà appunto creare nessuna parete tridimensionale lo andiamo a vedere appunto come verrà ricostruito il modello allora nel nostro caso quindi non inserisco un ambiente ma inserisco appunto l'ambiente aggregato quindi abbiamo separato i due ambienti in due porzioni appunto tale per cui questa porzione in basso per entrambe le cantine sarà creata andando a inserire come soffitto il nostro soffitto esterno allora creiamo quindi l'ambiente aggregato l'ambiente aggregato che potrà prendere una descrizione adeguata quindi definendolo proprio come cantina come appunto del resto tutti gli altri ambienti che sono a questo piano si inserirà andando a fare la cliccata all'interno della superficie dove dobbiamo appunto mettere l'ambiente aggregato ma essendo un ambiente aggregato adesso si richiede di selezionare l'ambiente a cui aggregare l'ambiente aggregato proprio come viene descritto qui nella riga di comando cioè dobbiamo dire al programma qual è l'ambiente principale a cui io aggrego appunto l'ambiente aggregato allora cliccherò sull'etichetta dell'ambiente principale in modo tale da inserire questa cantina aggregata all'ambiente principale quindi clicco all'interno dell'area dove vado ad inserire l'ambiente aggregato come faccio di consueto per inserire l'ambiente cioè seleziono un punto di inserimento che è questo ad esempio ma in aggiunta devo selezionare l'ambiente a cui aggregare l'ambiente aggregato quindi proprio l'ambiente principale questo l'ambiente principale che dovrà essere separato dall'ambiente aggregato per almeno una parete quindi deve avere una parete a confine tra principale ed aggregato allora io in questo caso ho semplicemente messo due ambienti non ho ancora differenziato le strutture quindi se vado a vedere l'edificio le mie strutture non sono ancora differenziate quindi avrò sempre la consueta colorazione dell'interpiano ma posso già vedere una cosa interessante se spengo i soffitti e osservo questi due ambienti andando per esempio a orbitare vedete che le pareti che io ho tracciato non si vedono sono sparite dall'input volutamente proprio perché adesso spengo anche gli ambienti così vediamo proprio all'interno dell'edificio volutamente l'ambiente aggregato fa proprio sparire tridimensionale di queste pareti ecco perché vi ho detto sì possiamo disegnarle anche eventualmente con le pareti fittizie ma non ce n'è bisogno in realtà perché il programma fa già questo lavoro di far sparire è la parete e quindi non considerarla dal punto di vista della tridimensionale questa parete serve solamente per differenziare l'ambiente principale da ambiente aggregato ora completiamo l'input andando sugli ambienti aggregati e definendo la struttura di soffitto e quindi questo soffitto esterno 2 che ho creato appositamente per questi due ambienti ora rimettiamoci in vista sonometrica riattiviamo il tridimensionale quindi come sempre vedete che la parete non si vede attiviamo soffitti e pavimenti vedete che la colorazione è modificata proprio perché gli ho detto che il soffitto esterno doveva assumere una colorazione verde quindi io sono riuscito a differenziare le strutture scambianti di questa cantina come soffitti se devo fare una cosa analoga per ad esempio il pavimento del piano 1 allora piano 1 io ho queste strutture questi ambienti che hanno al piano terra appunto a confine questo altro questo appunto questa porzione di appunto di parete che quindi dovrà essere differenziata quindi al piano primo l'ambiente più largo e aggettante al piano terra l'ambiente è più piccolo quindi dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto per la cantina attivare il piano primo dove voglio lavorare ma lasciare acceso il piano terra in modo tale da poter ricalcare le pareti del mio piano terra e quindi faccio di nuovo lo stesso lavoro anche al piano primo andiamo a inserire le due camere come ambiente aggregato ma questa volta dobbiamo ricordarci che sarà il pavimento adesso a dover essere modificato quindi nelle strutture io dovrò identificare invece che ad esempio il mio pavimento interpiano dovrò identificare un pavimento esterno quindi ne faccio sempre la copia come ho fatto prima per non fare un input ridondante non vado a definirla con una stratigrafia particolarmente diversa la lascio proprio come quella del pavimento interpiano semplicemente come tipo struttura adesso lo identifico come pavimento esterno così andranno a modificarsi i coefficienti di scambio termico liminare esterni e come ho fatto anche del resto per il soffitto esterno si è modificato il coefficiente di scambio termico liminare quindi chiaramente come abbiamo detto prima possiamo ovviamente ricordarci che la stratigrafia può essere modificata a seconda delle necessità andando a identificare appunto anche una stratigrafia con dell'isolante allora questo pavimento esterno di nuovo lo identifico con una nuova colorazione ad esempio la colorazione sarà magenta così lo differenziamo anche come colore e già in realtà all'atto in cui io vado ad inserire l'ambiente aggregato che appunto sarà la nostra camera io posso già dire che quest'ambiente ha una struttura di pavimento che sarà una struttura di pavimento impostata quindi la mia struttura di pavimento sarà il mio pavimento esterno esterno questo quindi posso già identificarlo come appunto pavimento esterno mio pavimento esterno lo vado a inserire in questa posizione e lo aggrego alla camera lo aggrego alla camera attiviamo di nuovo la sonometria in modo tale da andare a vedere i nostri due ambienti aggregati attiviamo nel tridimensionale ovviamente a soffitto rimane tutto come di consueto ma già vediamo a pavimento il colore magenta per la porzione che sarà scambiante con l'esterno e di conseguenza qualora io dovessi indurre diciamo la creazione delle frontiere di questo nostro edificio allora avremo la possibilità di vedere che questa struttura sarà scambiante con l'esterno e quindi abbiamo differenziato appunto gli scambi proprio per andare a definire una soletta di tipologia differente allora fatto questo questo input e quindi abbiamo differenziato i vari ambienti andando a definire gli ambienti aggregati possiamo ora andare a definire un altro input che può esserci utile ed è per esempio l'input di un vano scala allora siccome questo input è molto articolato io per farvi capire molto velocemente come si fa l'input di un vano scala ho preferito partire da un input molto più semplice come questo dove abbiamo un vano scala suddiviso per piano come ha fatto il collega una scala al piano rialzato una scala un vano scala al piano primo e un vano scala al piano secondo che tra l'altro sono anche di superfici differenti quindi dobbiamo in qualche modo se vogliamo definire un vano scala sforante quindi a tutta altezza definirlo in modo tale che sia a tutta altezza ma solo per la porzione che effettivamente sfora al piano primo e al piano secondo quindi dobbiamo fare in modo che il vano scala al piano rialzato sia sicuramente non sforante in toto quindi non deve sforare tutta questa porzione di vano scala ma solamente la porzione che è quella del piano primo e del piano secondo allora va da sé che quindi dobbiamo definire al piano rialzato solamente una porzione sforante di questo ambiente che sarà appunto quella che arriva dal piano primo quindi che viene tagliata dal piano primo rispetto a questa parete quindi nuovamente come abbiamo fatto prima tracceremo una parete quindi prendendo qualsiasi divisoria al piano rialzato da questo punto a questo punto come abbiamo fatto anche in precedenza quando abbiamo creato il nostro ambiente aggregato e quindi il nostro vano scala sarà diviso in due ambienti un ambiente aggregato da inserire appunto in questa posizione che sarà appunto la scala che appunto possiamo modificare come descrizione e andiamo a inserire il nostro ambiente aggregato aggregandolo al vano scala quindi come ho fatto prima ho differenziato le superfici perché come abbiamo detto al piano primo è solamente questa porzione che sforerà appunto e andrà a finire al piano primo appunto e al piano secondo dal piano rialzato allora come si fa l'input degli ambienti sforanti allora l'input degli ambienti sforanti va fatto prima di creare gli input al piano primo e al piano secondo quindi dovendo modificare un input dove è già stato previsto un vano scala per ogni piano dobbiamo assicurarci di fare in modo di non modificare l'input del vano scala che sforerà al piano primo e al piano secondo allora come faccio in questo caso per evitare di modificare il vano scala bene io momentaneamente seleziono il piano primo e il piano secondo e li sposto di una quantità nota ad esempio di 12 metri verso il basso torniamo al piano rialzato allora abbiamo detto che dobbiamo inserire un ambiente sforante quindi come facciamo per definire un ambiente che è un ambiente che partendo dal piano rialzato va al piano primo andrà al piano primo e andrà anche al piano secondo allora l'ambiente sforante si può già inserire quando io creo un ambiente andando a definire un'altezza fissata all'ambiente e definendola direttamente in fase di input dell'ambiente oppure qualora come in questo caso l'ambiente sia già presente nell'input possiamo andare a forzarne l'altezza come facciamo allora dobbiamo prima identificare di quanto deve essere alto il vano scala allora un vano scala in questo caso che parte da una certa altezza sul piano rialzato il piano rialzato è alto 3 metri o un interpiano di 30 centimetri quindi tra piano rialzato e piano primo anche il piano primo è alto 3 metri di nuovo un interpiano sempre di 30 centimetri tra piano primo e piano secondo piano secondo anch'esso è alto 3 metri quindi abbiamo in totale 9 metri e 60 centimetri di ambiente perché abbiamo i 3 più 3 più 3 quindi sono i 9 metri delle altezze interpiano di tutti e tre i piani che prendiamo in considerazione quindi piano rialzato primo e secondo ma tra il rialzato il primo e tra il primo e il secondo abbiamo una soletta interpiano abbiamo il soffitto del rialzato 30 centimetri che corrisponde chiaramente al pavimento del piano primo e poi abbiamo di nuovo un 30 centimetri come il soffitto del piano primo che corrisponde al pavimento del piano secondo quindi sono 3 metri più 3 metri più 3 metri più 2 volte la soletta interpiano da 30 centimetri quindi avremo 9 metri e 60 centimetri di vano scala dove abbiamo il pavimento sul piano interrato come pavimento del nostro piano rialzato e come soffitto del nostro vano scala sarà il soffitto del piano secondo cioè il soffitto dell'ultimo piano benissimo allora andiamo a imporre quindi questa quota e contestualmente siccome stiamo creando un ambiente sforante e quindi gli fissiamo l'altezza contestualmente dovremo obbligatoriamente forzare le strutture di pavimento e di soffitto cioè un ambiente sforante non solo deve avere una forzatura di altezza interna netta che quindi facciamo in questo caso da dati estesi ma come abbiamo visto prima ma si può fare direttamente in fase di input dell'ambiente quindi abbiamo detto 9 metri e 60 centimetri ma non solo abbiamo detto che dobbiamo forzare sia il pavimento quindi il pavimento del nostro vano scala ma anche come soffitto quindi soffitto ultimo piano quindi abbiamo un pavimento sul piano interrato e un soffitto ultimo piano applichiamo queste caratteristiche al vano scala quindi 9 metri e 60 con le strutture di pavimento di soffitto fissate proprio come gli altri ambienti pavimento su piano interrato in questo caso e il soffitto che sarà il soffitto dell'ultimo piano benissimo cosa è successo il nostro ambiente che è il nostro vano scala sarà replicato sia sul piano sia sul nostro piano piano primo sia sul nostro piano secondo quindi si è replicato ai vari piani di sforamento in effetti io lo vedo anche nella vista in pianta partendo dal piano rialzato abbiamo un piano primo e un piano secondo quindi il nostro ambiente è effettivamente stato replicato ai vari piani di sforamento piano primo e piano secondo quindi l'input che io faccio ad esempio al piano primo non può prescindere dalle pareti che io vedo al mio piano primo e che sono state replicate dal programma in automatico in funzione dello sforamento che io ho fatto questo non può essere modificato questo input devo lasciarlo quindi tutto l'input che io faccio al piano primo dovrà adeguarsi alle pareti che sono frutto di sforamento dell'ambiente sforante quindi quello che io avevo disegnato ipotizzando un vano scala per piano allora il vano scala non mi serve più io dovrò riposizionare solamente la porzione di input legata agli ambienti che confineranno col mio vano scala quindi io riposizionerò solamente queste pareti quindi la risposto di 12 metri e sposto anche l'ambiente mi sono dimenticato di spostarlo in precedenza eccolo qua allora questa parete che io da sotto ho disegnato come divisore da 10 perché partiva da rialzato ma qui era a confine con un ambiente aggregato quindi qualsiasi parete uso non mi importa al piano primo è rimasta una divisore da 10 in realtà deve essere cosa deve essere per esempio un divisore da 15 benissimo allora io posso tranquillamente selezionare questa parete e trasformarla in divisore da 15 non la ridisegno ce l'ho già basta trasformarla da dati estesi la modifico quindi avrò il mio divisore da 15 poi posso anche qui prendere le mie porte che ho disegnato di sotto le riposiziono l'ambiente ce l'ho già ovviamente non devo riposizionarlo riposizioniamo anche la finestra questo ambiente non mi serve più lo posso buttare via questo è il mio ambiente e la mia situazione al piano primo al piano secondo stessa cosa al piano secondo anche qui possiamo farlo subito mettere il divisore da 15 e di nuovo spostare come input solo ciò che mi serve perché quello che ho e che proviene dallo sforamento non devo spostarlo quindi ciò che ho qui lo lascio perché proviene dallo sforamento dal piano rialzato del mio vano scala questo è ciò che io devo conservare il resto dell'input si adegua e quindi sposto sempre di 12 metri per la restante parte di input adeguando appunto l'input che ho fatto quindi posso poi stirare le mie porte e le mie finestre in modo tale da adeguarle allora qui basta togliere appunto questa dimensione fissata e metto appunto le porte sul mio vano scala questa porzione di input la posso tranquillamente eliminare e così avrò creato il mio vano scala sforante e lo posso vedere perché se spengo i pavimenti e i soffitti spegniamo anche solo il soffitto quindi lasciamo attivo il pavimento il pavimento del piano secondo lo vedo ma non nel vano scala il vano scala è un vano a tutta altezza vedete che all'interno io posso vedere le tre porte che ho messo per esempio i tre livelli tra l'altro vedo qui sotto non vedo nessuna parete perché al piano più basso al piano rialzato quindi spegniamo il secondo il primo al piano rialzato è tutto un ambiente questo perché ho messo qui l'aggregato giustamente quando accendo il piano primo però la superficie si riduce giustamente perché il nostro vano scala qua la parete deve averla in quanto appunto si è ridotto al piano primo è più piccolo al piano rialzato invece rimane allungato quindi che occupa diciamo tutta la lunghezza lato corto dell'edificio ma al piano primo questo non capita nemmeno al piano secondo quindi accendiamo spegniamo il soffitto anche al piano secondo appunto qui è ridotto il vano scala più piccolo ma al piano di sotto no la parete si è automaticamente sparita ok e questo per quanto riguarda gli ambienti sforanti e in più anche ambienti aggregati perché abbiamo fatto anche l'aggregazione al piano rialzato abbiamo detto al piano primo l'ambiente era più piccolo come al piano secondo al piano rialzato ovviamente abbiamo dovuto rimpicciolire l'ambiente in modo tale da rendere sforante solamente la porzione che sfora anche al piano primo e al piano secondo ok ora torniamo di nuovo sul nostro edificio che avevamo visto in precedenza e facciamo ora un caso di ad esempio creazione di un tetto un tetto su ad esempio su una porzione del nostro edificio al piano 2 un tetto dove voglio disegnare per esempio un tetto solo in questo caso sulla porzione di sinistra poi vediamo cosa succederà sulla porzione di destra allora sulla porzione di sinistra ad esempio fino in corrispondenza di questa parete voglio disegnare un tetto un tetto che appunto creerà appunto definiremo un tetto a falda su questa su questa parete allora voglio disegnare un primo tetto a falda su questa su questo edificio al piano P2 allora andiamo a vedere le quote del piano P2 il piano P2 arriva fino a 10 metri e 90 centimetri allora ipotizziamo di voler lavorare appunto disegnando un tetto in modo tale che il nostro il nostro tetto magari sia come gronda 10 metri e 90 ma il colmo sia un po' più alto allora modifico l'altezza netta del piano P2 rendendolo più alto quindi facciamo in modo che il piano P2 sia ad esempio di 6 metri solo per avere più margine per disegnare il tetto solo per questa ragione quindi alzo il mio piano P2 in modo tale da creare un tetto che per quanto riguarda abbiamo detto il nostro il nostro la nostra gronda arriva più o meno arrivi parta da 10 metri 90 diciamo anche 10 metri e come partendo appunto da una gronda di 10 metri andiamo a un colmo di 12 ad esempio ipotizzò di fare un semplice tetto a tre falde ad esempio dove abbiamo le due falde tipo di tetto a capanna su questo latto e su quest'altro poi la terza falda la disegneremo invece sul lato corto del tetto quindi qui per esempio allora creo un progetto tetto un nuovo tetto e come struttura del tetto metterò il soffitto esterno ad esempio la quota dell'etichetta di falda mi permette di posizionare quando andremo a inserire la falda il simbolino di falda a una certa altezza ipotizziamo che sia 10 metri ad esempio dove c'è la gronda ad esempio dove ci sarà la gronda del nostro tetto ok disegniamo il nostro tetto colmo gronda allora il disegno del tetto prevede che l'utente vada a identificare la quota di disegno del tetto chiaramente bisogna ricordarsi di indicarla questa quota può capitare di fare degli errori può capitare di effettivamente non ricordarsi di disegnare la quota del tetto in modo corretto quindi a una altezza corretta allora ipotizziamo di sbagliarci e di non identificare la quota z del tetto allora facciamo in modo di disegnare appunto il nostro colmo gronda e disegnare la gronda appunto in questa posizione per esempio qua poi di proseguire ad esempio disegnando il colmo non ci ricordiamo di definirne in modo corretto l'altezza quindi partiamo da questo punto per disegnare il colmo ho preso questo punto di riferimento in modo da partire allineato alla gronda che ho già disegnato arriviamo per esempio in questo punto poi facciamo la nostra falda perché abbiamo detto che facciamo un tetto a tre falde quindi sarà una falda che fa un lavoro del genere e abbiamo disegnato una prima porzione di tetto tutto a quota abbiamo visto quota 0 perché ci siamo dimenticati di creare un tetto alla quota giusta poi sempre per velocizzare il lavoro io specchio questa falda perché la voglio rendere speculare la falda del tetto a due falde sarà speculare quindi sarà fatta in questa maniera e poi chiudo il tetto a tre falde disegnando questa ulteriore linea di colmo gronda qui e vediamo ho disegnato appunto questo tetto allora in realtà non ho compiuto solo un errore disegnando questo tetto ma ne ho compiuti due iniziamo dal primo errore allora intanto beh ovviamente qui bisogna anche chiuderlo il tetto ma non era uno degli errori che vi volevo segnalare qui chiaramente dobbiamo chiudere il nostro disegno di tetto allora mettiamo intanto le falde una falda due falde e tre falde però questo tetto come abbiamo detto no? come sottolineato prima sarà un tetto piano perché io non ho definito una quota corretta di disegno del tetto infatti vedete che il tetto se lo guardo in vista laterale è un tetto piano a tutti gli effetti posso poi mettermi anche a visionarlo sulle varie viste è palese che sia piano ma l'ho fatto volutamente piano perché ho detto ho diciamo indotto l'errore per il fatto che io non ho quando ho tracciato il disegno dei colmi e gronde definito una quota di tetto benissimo come faccio a correggerlo allora una prima correzione che si può fare è spostare il tetto lungo l'asse Z abbiamo detto che la gronda doveva essere 10 metri e non 0 come identificabile anche attivando le coordinate tramite questa funzione di personalizzazione che mi permette di attivare ciò che voglio vedere qui in basso nel programma in particolare in questo caso le coordinate allora visualizzando le coordinate se seleziono un oggetto e mi sposto col cursore del mouse senza cliccare io qui vedo le coordinate in cui ho disegnato i vari oggetti tutto a quota 0 come mi attendevo perché facendo un errore io ho disegnato il colmo e la gronda effettivamente a quota 0 ma no non è così che dovevo disegnarlo dovevo disegnare almeno la gronda a 10 metri benissimo allora io utilizzo il primo comando che mi permette di spostare il tetto lungo l'asse z ma questo comando che cosa fa sposta rigidamente il tetto lungo l'asse z bene è un inizio lo porto a 10 metri ad esempio quindi qual è la differenza di quota 10 metri perché sono a 0 devo portarla a 10 metri in quota assoluta quindi la differenza 10 meno 0 è proprio 10 metri allora vediamo se ho spostato almeno il tetto lungo l'asse z lo vedo subito andiamo qui 10 metri leggete la terza coordinata effettivamente 10 metri ma lo sono tutte 10 metri chiaramente perché io come detto ho spostato rigidamente il tetto lungo l'asse z rimane effettivamente adesso in corrispondenza del piano p2 ma è in corrispondenza del piano p2 a appunto 10 metri di altezza ed è un'altezza che non va bene per esempio per il colmo perché il colmo lo volevo a 12 metri abbiamo detto come facciamo adesso per non più spostarlo rigidamente il tetto ma spostare solamente il colmo a 10 metri c'è un secondo comando che mi permetta di impostare le quote dei singoli nodi delle linee di colmo di gronda questa quota abbiamo detto quota assoluta ricordiamoci che si ragiona in quota assoluta quando si disegna il tetto disegnando colmo gronda o quando lo si imposta come in questo caso abbiamo detto il colmo deve essere a 12 metri io quindi dico la quota assoluta del punto sarà a 12 metri qual è il punto da spostare? questo punto e questo punto vediamo se adesso il tetto è ancora piano no effettivamente il tetto non è più piano eccolo qua come ci aspettavamo gronda da 10 metri ma il colmo a 12 e lo possiamo verificare anche selezionandolo 12 metri leggiamo qui la coordinata 12 metri perfetto questo era il primo errore che avevo fatto l'errore di quota ma il secondo errore è un altro se io adesso dico al programma che voglio estendere questi ambienti in questa posizione io ho commesso un errore e lo vediamo poi vi spiego il motivo per cui ci sarà l'errore allora accendiamo il piano P2 il nostro tetto lo spengo allora ipotizziamo che gli ambienti sottotetto siano gli ambienti di questo appartamento di sinistra tutti gli ambienti dell'appartamento di sinistra sono sottotetto benissimo allora glielo dico al programma seleziono gli ambienti dirò dati estesi questi ambienti sono ambienti sottotetto e applico se chiaramente non dico agli ambienti che sono sottotetto il programma non sa che questi ambienti sono sottotetto non lo può sapere automaticamente sono io che devo dire quali sono gli ambienti sottotetto e definendo gli ambienti sottotetto guardate qua cosa succede che c'è un errore come vi avevo preannunciato ci sarà un errore proprio su quell'ambiente che vi avevo detto essere un ambiente che aveva appunto l'errore del tetto perché c'è l'errore del tetto qui su quest'ambiente cioè perché questa parete va in alto all'infinito e di conseguenza come sempre è importante vedere l'input che è stato fatto per comprendere che cosa si fa quindi il fatto di avere un input grafico non significa trascurarlo significa consultarlo e capire il motivo per cui c'è un errore proprio visionando l'input grafico allora in questa posizione il tetto è un tetto che non copre per bene le pareti in particolare andiamo proprio a vedere in pianta cosa succede su questa parete qui in basso allora togliamo l'ombreggiatura allora se voi disegnate il tetto non lasciando il tridimensionale delle pareti commettete questi errori cioè la parete questa parete non è tutta quanta compresa sotto questo tetto mentre lo sono tutte le altre compresa questa questa è sotto il tetto completamente perché il tetto arriva qui la parete arriva solo in questa posizione quindi c'è ancora tutta questa porzione di tetto che appunto copre bene la parete in questo caso invece no vedete che mi manca un pezzo di tetto allora o chiaramente disegno il tetto tutto più largo oppure proviamo a vedere se spostando semplicemente un pochino il tetto riusciamo a arrangiarci riusciamo a effettivamente andare a coprire questa porzione di parete non dimenticando che quest'altra porzione non deve rimanere scoperta quindi se lo sposto il tetto lo sposto ad esempio in questa maniera in modo da arrivare a filo della parete questo è sempre il tetto questa è la parete ma non posso spostarlo di più vediamo se basta e non basta vedete che non basta comunque perché anche se sposto il tetto la parete di sotto rimane sempre più larga allora qui bisogna proprio allargarlo il tetto bisogna fare in modo che il tetto sia più largo allora per allargare il tetto io cosa posso fare beh intanto sposto le falde perché non lavoro con le falde inserite del tetto quindi le sposto fuori e semplicemente sposto un pochino sposto rigidamente vedete un po' più in là il nostro la nostra gronda che rimane sempre 10 metri stiro il nostro le nostre le nostre linee di colmo gronda così ho allargato questa porzione di tetto se la voglio allargare simmetricamente allora posso anche dire cancelliamo questa porzione di tetto specchio ciò che ho disegnato rispetto al colmo e stiro questa linea in modo da arrivare nel punto giusto riposiziono le falde e le falde vengono lette correttamente allora le falde adesso ci torniamo anche su come rendere appunto le falde corrette allora il nostro tetto ora è effettivamente abbastanza largo per coprire bene tutte le pareti quindi se io adesso mi metto in assonometria e osservo il disegno del tetto magari andiamo a vederlo in questa modalità e riestendo i sottotetti utilizzando questo comando estendo i sottotetti ora quella parete lì non si estende più all'infinito ma effettivamente viene tagliata correttamente dal nostro tetto proprio perché il tetto è più ampio della parete cioè la copre per bene per tutto il suo tridimensionale e quindi è generato correttamente una falda per essere corretta come vi dicevo deve essere una falda piana quindi deve giacere su un piano quindi un tetto che io disegno e magari lo copiamo questo tetto lo copio per esempio qua per essere piano perché effettivamente si crea una falda piana io lo devo disegnare come tale cioè questa faccia questa superficie che c'è ancora di falda 1 per essere piana deve avere per esempio in questo caso i colmi e le gronde disegnati in modo tale da essere in questo caso per esempio paralleli se devono avere questa questa linea di colmo gronda 10 metri di altezza e il colmo 13 metri 12 metri chiedo scusa se questa falda io non la disegno piana e quindi ad esempio faccio una cosa del genere questa la stiro la lascio lì questa linea la faccio non parallela per esempio a questa linea ma la inclino leggermente pur mantenendo la stessa quota la inclino di poco anche di pochissimo questa linea è inclinata rispetto a quest'altra linea ma rimane sempre a 10 metri vedete 10 metri 10 metri 10 metri cosa succede se unisco adesso questa linea e provo a mettere la falda la falda non è valida ma perché non è valida perché diventa una falda sghemba e questa linea dovendo essere parallela a questa può avere la stessa quota 10 metri 10 10 e 10 ma solo se effettivamente questa linea è parallela a questa se io cerco di se io non la disegno parallela e voglio che questa linea comunque giaccia tutta una quota costante questa falda non sarà più valida per forza perché qui questo non è più un piano questa falda non è più una falda piana ecco perché la falda non è valida quindi delle due l'una ho appunto lo disegno per bene il tetto e quindi lo disegno in modo tale da rendere questa linea parallela al colmo oppure la soluzione diciamo più più veloce potrebbe essere quella di disegnare una linea di colmo gronda diagonale in modo tale da creare prendo il punto finale ovviamente in modo da creare una falda con due triangoli allora se creo due triangoli questa falda effettivamente è per forza piana perché un triangolo giace per forza su un piano ma in realtà la falda di per se stessa non sarebbe piana se io non la rendessi non la creassi come due triangoli quindi questo è un primo motivo per cui una falda appunto non è non è non è non è valida cioè il motivo principale diciamo proprio il fatto che non giaccia su un su un piano poi chiaramente se torniamo indietro nel nel disegno se per caso io voglio proprio disegnare il il mio la mia linea che appunto non è proprio dritta ma è un po' inclinata adesso la ritorniamo al punto in cui invece il tetto è disegnato correttamente quindi la linea effettivamente parallela al colmo gronda allora dovendola disegnare un po' storta questo lo si può fare però se questo punto non è a 10 metri cioè se io questo punto lo sposto qua e lo sposto a una quota che effettivamente è diversa di 10 metri perché adesso è 10 punto 0 78 metri allora certo che questo tetto ha sempre una falda piana pur essendo inclinato ma perché questo punto di partenza 10 metri non è alla stessa quota del punto di arrivo il punto d'arrivo è più in alto allora pur non essendo parallele queste linee comunque la falda giace sempre su un piano e allora è ammesso questo ma solo perché queste due quote sono differenti allora si potrà anche disegnare il tetto in questa maniera ok quindi abbiamo visto come si può creare il tetto disegnato appunto in modo tale da avere il il nostro appunto il nostro edificio fatto in modo da avere il tetto appunto su una falda su falde che sono che sono falde piane possiamo ancora vedere un ultimo caso in cui creiamo il creiamo due tetti a quote differenti quindi prenderò questo tetto che ho disegnato sul tetto che si chiama appunto tetto e lo diciamo lo riporto su un tetto invece differente quindi vediamo anche come posso spostare un tetto che ho già disegnato sul progetto tetto su un tetto 1 allora perché mi servono due progetti tetto differenti se io per esempio ho una falda una porzione di tetto sulla sinistra che è disegnata appunto col colmo a 12 metri gronda 10 metri mentre invece voglio disegnare questa porzione di destra più alta magari col colmo anche solo a 13 metri e la gronda a 11 quindi con due altezze di tetti diverse e quindi in modo tale da creare qui nel confine del tetto un timpano ebbene per il fatto stesso di dover creare un timpano in questo confine devo per forza creare il tetto in modo tale da farlo appartenere a due progetti tetto differenti allora per far questo devo innanzitutto creare un nuovo progetto tetto quindi ne creo un altro tetto 2 che sarà sempre fatto col soffitto esterno allora rendo attivo tetto 2 il progetto tetto 2 non l'ho ancora disegnato ho disegnato tutto sul tetto ma se io faccio questo lavoro prendo questo oggetto lo copio lo copio qua la copia apparterà al tetto 2 quindi quando copio un tetto e rendo attivo il tetto di destinazione quindi io partivo da tetto e attivando tetto 2 copio una porzione di quello che è di un oggetto che era su tetto la copia andrà a finire sul tetto di destinazione cioè il tetto attivo in quel momento tetto quindi adesso questo oggetto è su tetto 2 ma lo voglio anche specchiare cancellando ciò che c'era in precedenza quindi questo è tetto 2 tetto 2 andrà a doversi sovrapporre a tetto qui dove c'è l'ipotetico punto dove voglio avere il timpano del mio tetto perfetto allora sposto questo tetto in modo tale da averlo appunto in corrispondenza del mio tetto però attenzione se io lo sposto semplicemente così non ho ancora modificato la sua altezza ok quindi adesso dovrò poi spostarlo anche in altezza tetto 2 perché vedete che adesso io ho i due tetti che sono esattamente spegniamo P2 alla stessa altezza ma io voglio che il tetto 2 sia più in alto allora tetto 2 deve essere spostato rigidamente ma abbiamo visto come fare posso spostare il tetto lungo l'asse Z allora diciamo che lo sposto di diciamo che lo sposto di un metro e mezzo un po' di più ok in questa maniera quindi ho due porzioni di tetto una più bassa e l'altra più alta ok adesso cosa dobbiamo fare dobbiamo ancora dire che spegniamo il nostro i nostri progetti tetto dobbiamo dire che questa porzione di sinistra è anche lei sottotetto e per creare il timpano anche dove c'è il vano scala io utilizzo sempre la funzione di ambiente aggregato per il vano scala suddividendo il vano scala in questa maniera perché questa parete mi serve per creare il timpano e questa parete che però dovrà crearsi solamente tra un tetto e l'altro apparterrà sia il vano scala ma sul vano scala io devo avere di nuovo un ambiente aggregato quindi avrò l'ambiente aggregato da inserire qua e da attribuire il vano scala questo sarà il mio timpano ma solamente per la porzione che sborda e che deve appunto completare il tetto quindi che creerà in sostanza il timpano tra i due tetti quindi ciò che io dovrò disegnare e che il programma mi disegnerà tra i due tetti quindi qua in sostanza però non ho ancora detto alla porzione degli ambienti di destra che sono sottotetto bene ma se tutti gli ambienti del piano del nostro piano P2 sono sottotetto allora è più veloce fare in questa maniera selezionare il P2 e dire che tutti gli ambienti sono sottotetto applico do ok adesso spegniamo i tetti accendiamo il piano P2 col tridimensionale attivo dico al programma adesso estendimi sottotetti ed ecco qua che ho creato due tetti a quote differenti mettendo proprio il timpano viola che crea appunto la parete tra i due tetti e quindi ho completato l'input che volevo fare ho creato anche due tetti a quote differenti bene direi che con quest'ultimo esempio dovrei aver coperto anche la casistica di disegno di tetto un po' un po' particolare quindi direi che possiamo ritenerci soddisfatti del lavoro del lavoro eseguito a questo punto diciamo che possiamo passare alle domande e magari inizierà il mio collega a dare qualche risposta sulla prima parte del nostro appunto del nostro intervento io poi proseguirò per la parte di input avanzato perfetto grazie allora adesso leggerò alcune domande allora una prima domanda allora posso inserire un'esposizione non scambiante ad una parete fittizia per evitare di modellare l'intero edificio in caso di ampliamenti comunicando i cozone già esistenti allora sicuramente sì infatti era quello che vi ho anche detto cioè se io non devo fare l'edificio confinante cioè non voglio farlo diciamo allora io posso forzare l'esposizione di quella parete dandogli l'esposizione apposita che c'è perché non dovete neanche crearla che è l'esposizione non scambiante ovviamente quella parete però non può essere fittizia il concetto di parete fittizia è una parete che in realtà non esiste cioè è solo una suddivisione che viene fatta su un ambiente che io un ambiente magari grande lo voglio suddividere per sapere le potenze per ogni singolo ambiente diciamo è una parete sostanzialmente adiabatica quindi invece siccome la parete confinante è una parete reale direi che quella non la dovete mettere come parete fittizia ma come parete reale insomma la parete confinante dunque sto utilizzando una versione trial di mc4 posso iniziare un lavoro con questa versione successivamente continuare il lavoro e con una licenza ufficiale sicuramente sì diciamo che se con la trial è nei limiti di utilizzo della trial poi ovviamente quel file lì se lo può utilizzare anche dopo cioè non è che viene perso nella sezione ponti termici nelle finestre il programma come calcolo il ponti termico si scelga l'opzione default allora l'opzione default semplicemente il software va a leggere quello che è stato impostato nei dati generali adesso io sarebbe quello che vi faccio vedere un attimo qui nei dati generali non qui scusate allora innanzitutto bisogna creare il ponte termico di serramento ovviamente nei dati generali invece io posso andare ad impostare qui il ponte termico e quando io nel serramento che è quello che io vedo qui nel serramento nella sezione termica gli vado a dire che è default qui lui cosa fa va a leggere quello che c'è nei dati generali se invece è un ponte termico che è da differenziare finestra per finestra benissimo voi non mettete default caricherete il ponte termico corretto quindi default significa semplicemente che lui si va a pigliare i dati si va a pigliare il ponte termico che trova nei dati generali questo è il senso altre cose vediamo posso trasformare le linee curve e i muri sicuramente sì perché il comando questo comando che vi ho fatto vedere di questo qui vediamo dov'è allora devo tornare qui sull'edificio il comando trasforma linee e mura esterno funziona su tutti i tipi di disegno anche un disegno che non è un lineare che è una curva diciamo i ponte termici degli invissi che vengono aggiunti utilizzando l'archivio e infissi viene applicato su tutto il perimetro sì viene applicato su tutto il perimetro se voglio utilizzare un calcolo migliore considerando la soglia e il cassonetto devo farlo manualmente allora sicuramente viene applicato su tutti i perimetri se volete fare una differenziazione allora lì siete costretti a metterlo manualmente del ponte termico a parte le stambe delle relazioni è possibile stampare delle tavole standard grafiche dei piani con le zone ambienti e strutture ed altri dati che escono fuori dalle varie analisi ma allora sicuramente sì perché questo qua siamo in ambiente AutoCAD quindi ovviamente voi qua potete gestire lo spazio carta potete questo disegno che voi vedete qua è un disegno non solo una componentistica mc4 questo no questo è anche un disegno di AutoCAD quindi la possibilità di fare un layout di stampare di fare quello che meglio crede si può sicuramente fare c'è anche il comando di stampa voglio dire qui nella stampa c'è la stampa di AutoCAD adesso io non ho settato nessun plotter però c'è il plotter la stampante che si può settare assolutamente allora vediamo se ci sono altre domande ma qua ci sono domande che dovrà rispondere poi il collega vediamo se ce n'è altro allora c'è un limite al numero delle stratigrafie dal loro spessore nel disegno dei nodi del singolo ponte termico direi di no non ci sono limitazioni poi altra domanda nei ponti termici l'estensione delle pareti e del solaio hanno importanza allora diciamo che una buona regola vuole che il una regola tecnica vuole che questa lunghezza che vedete qua deve essere almeno tre volte lo spessore dico almeno tre volte voi la potete fare anche più lunga diciamo quando se voi invece sei più piccoli tre volte lo spessore non è detto che sia corretto il calco questo lo dice anche il software termo insomma questa poi è anche una una buona regola di calcolo diciamo è corretto rappresentare un tetto con sottotetto contro soffitto come unico strato con strato d'aria interposta allora qui il limite è legato alla norma delle intercapedine per cui se l'intercapedine che si va a creare è minore o uguale di 30 centimetri lo potete mettere come intercapedine se non è così allora ovviamente dovete creare un livello contro soffitto non climatizzato quindi lo ho creato in questo modo qui allora durante l'inserimento delle condizioni a condono del ponte termico parete solaio interpiano non ho capito come ha fatto a spezzare la linea di disegno CAD non c'è nessun problema allora la linea di disegno CAD io semplicemente ho fatto questo cioè il disegno generico questa linea che vedete qua io ho fatto semplicemente questo lavoro qua preso qui l'ho spezzata e poi ho continuato cioè capito lo spezzare significa quello nient'altro cioè questa la linea del disegno che adesso non si vede più perché c'è ci sono l'input del ponte termico io l'ho semplicemente spezzata questa linea qui è spezzata perché era spezzata questa qui quella del disegno tutto lì nel caso di sottofinestro stretto io credo che qui si riferisca al sottofinestro il sottofinestro ovviamente io dicevo che non deve essere più grande dello spessore del munomo questo non vuol dire che non deve essere più piccolo più piccolo anzi è quasi sempre così se ho capito bene la domanda cioè non so per la gestione dei sottofinestri incassati occorre inserire una struttura di spessore inferiore certo cioè bisogna se il sottofinestra è differente dalla struttura principale ed è ovviamente più sottile perché se è più spessa è già qualcosa di anomalo che non esiste proprio allora se è più c'è una struttura diversa ed è ovviamente più sottile chiaramente nei dati della finestra che sono quelli che poi io vi ho fatto vedere nei dati del serramento sottofinestra voi qua glielo andate a dare io in questo caso non c'era questa condizione che chiedevate però se la struttura è diversa qua lo si va a indicare cioè vado qui carico la struttura ovviamente la devo creare in anticipo e la vado a caricare altrimenti rimane soltanto una questione grafica questa cioè nel senso che io vedete solo una questione grafica che ovviamente poi viene evidenziata anche nell'input grafico diciamo allora per l'inserimento del vano scala si può operare solo con l'inserimento di una esposizione ad hoc ed evitare la modellazione allora diciamo che il vano scala io l'ho messo come locale non riscaldato analitico infatti voi qua se vedete io ho messo tutto analitico quindi il vano scala qui è considerato locale non climatizzato analitico se voi volete evitare di inserire questo locale potreste creare un'esposizione sempre se però siete su condizioni di non edifici nuovi voi potete potete creare un'esposizione vi faccio solo vedere qui nelle esposizioni potete creare una nuova esposizione verso scala ad esempio di tipo verso zona non climatizzata e poi gli andate a definire qual è il il locale diciamo che caratteristica è il locale non vi consiglio di usare invece le esposizioni tipo interna perché semplicemente le norme uni non specificano questa modalità cioè qui non dovreste andare a specificare la temperatura media mensile e l'umidità che però sono dati che non conoscete quindi questo potrebbe avere un senso più su altri tipi di calco ma su calcolo energetico direi di no quindi nel momento in cui voi create questa esposizione che è questa semplicemente non inserite l'ambiente andate a dare questa esposizione alla parete quindi queste esposizioni che avete creato voi gliele andate a dare questa qui quindi si può anche non mettere l'ambiente se però siete in situazioni più che altre non di edifici nuovi diciamo altre domande per quanto riguarda il video lo metteremo sul canale youtube quindi state tranquilli perché ho visto una domanda che lo chiedeva allora posso rappresentare i pilastri inseriti nelle temperature o è problematico lo spezzettamento che ne deriva allora questa domanda mi colgo l'occasione per dire che perché mi ero dimenticato di dirlo bisognerebbe evitare gli spezzettamenti questo bisognerebbe evitare perché vedete io quando ho disegnato ho disegnato delle linee continue non spezzettate o usate il comando raccordo in modo tale che non si creano degli spezzettamenti non ho lavorato in questo modo qua tipo così poi magari tolgo poi ricomincio capite questo lavoro qua non va bene perché questo è uno spezzettamento che non serve allora il ponte termico quello immagino non di di angolo ma quello interno si inserisce come scusate il pilastro d'angolo d'angolo l'ho inserito col ponte termico appunto apposito poi c'è il pilastro invece non d'angolo quello in mezzo qui è quello anche creato il ponte termico e lo inserite lo inserite come ponte termico in sostanza non come spezzettamento quindi questo qui direi che come ci si comporta in caso di doppie altezze o piani dello stesso edificio a diverse quote allora non abbiamo visto un input di piani sfalsati essenzialmente quando si hanno le doppie altezze abbiamo visto abbiamo visto la parte legata al vano scala addirittura vi ho fatto vedere un vano scala che è stato disegnato su tre diversi livelli quindi abbiamo abbiamo identificato in sostanza un ambiente a tripla altezza andando a fissarne la quota e fissando soprattutto anche soffitto e pavimento perché è importante fare anche questa considerazione non si fissa solo l'altezza ma anche il soffitto e il pavimento di un ambiente sforante per quanto invece riguarda input legati al invece agli ambienti o meglio ai livelli sfalsati i livelli sfalsati si gestiscono sempre nell'elenco piani andando a creare un elenco piani opportuno cioè in sostanza dovete identificare tutte le strutture interpiano che avete creando altrettanti livelli che quindi potrebbero non corrispondere effettivamente ai piani fisici che voi avete ma semplicemente servono questi livelli per identificare le quote come avete visto che io vi ho mostrato le quote nella parte dell'elenco piani in basso che c'era lo schermetto delle quote ebbene quello schermetto lì va creato in funzione di tutte le diverse i diversi soffitti interpiano pavimenti interpiani che siano alle diverse quote che voi avete nell'edificio dopodiché vi dovete andare a regolare andando a forzare le altezze degli ambienti facendogli arrivare appunto alla quote opportuna quindi suoranti in genere almeno di un livello in modo tale che arrivino a livello successivo è un input che descritto a parole diventa un po' diciamo forse un po' complicato da capire bisognerebbe fare degli esempi però fare un esempio di questo genere insomma ci vogliono un po' qualche minuto per farlo ecco non è proprio una banalità a livello operativo da fare così su due piedi bisogna prima di tutto partire andando a identificare come vi dicevo tutte le quote di ogni di ogni livello eventualmente possiamo fare un video esplicativo in merito fatto con la 2021 e poi darlo a disposizione se è del caso allora passiamo alla successiva domanda allora i muri a mezza altezza che vengono realizzati ma che non delimitano ambienti come possono essere realizzati dato che mi dà errore se non chiudo l'ambiente allora gli ambienti in questo caso realizzati disegnando delle pareti che sono a mezza altezza quindi dei muriccioli che non costituiscono una parete che arriva fino sulla diciamo sulla parte del soffitto sono muri che in realtà non vengono utilizzati dal punto di vista termico e quindi essenzialmente non andrebbero disegnati nel caso voleste simulare una situazione del genere diciamo che l'unica l'unica cosa che mi può venire in mente è quella di andare a ridurre la superficie utile dell'ambiente in ragione di questa superficie coperta da questa parete ma altri modi non me ne vengono in mente ecco allora gli ambienti sforanti non possono essere modificati ma si possono modificare le strutture che vengono generate su ogni piano in modo da personalizzare eventuali coibentazioni interno esterne del vano scala per piano ampliamento ad esempio allora come vi avete visto quando vi ho fatto l'esempio del vano scala io ho disegnato volutamente una parete di un certo tipo a livello inferiore dopodiché sono andato nei dati estesi di quella parete a forzare o meglio sia cambiare la struttura al piano primo al piano secondo in modo da mettere quel divisore da 15 famoso quindi come avete fatto su quella parete lo potete fare anche sulle parecchie esterne del vano scala andando a modificarne le caratteristiche e chiaramente la posizione non può essere modificata perché per modificare la posizione dovete creare l'ambiente sforante più piccolo se vi serve ma la posizione è univocamente determinata dal fatto che l'ambiente sforante abbia sforato di livello quindi quella è la sua dimensione se fosse più piccolo come abbiamo visto anche l'esempio del piano inferiore più grande e dei piani superiori più piccoli voi dovete prendere la intersezione di ciascuna superficie ai vari piani del vano scala in modo da prendere appunto la superficie più piccola ma che è in comune ai vari livelli come ho fatto io perché sono andato a prendere le tre intersezioni le prime due erano uguali al piano primo e secondo quella al piano rialzata era più grande allora l'ho ridotta quella al piano rialzato prendendo appunto la superficie in comune tra i tre livelli tra i tre piani ma la stessa cosa sarebbe successa se anche al piano primo e al piano secondo la geometria cambiava dovevo sempre prendere l'intersezione delle varie superfici ai vari livelli l'intersezione determina la superficie comune a tutti i livelli quella va a sporare e poi si aggiungono i vari ambienti aggregati in modo tale da far sì che il vano scala diventi più grande nel punto giusto ai vari livelli in questo caso ve l'ho fatto vedere al piano rialzato ma la logica è sempre la medesima le pareti non vanno però a modificarsi come posizione sono quelle che modificano le caratteristiche allora come faccio a rappresentare su uno stesso piano spessori di solaio diversi ed avere stradosso allineato mantenendo le altezze interne di progetto allora quando cambio una struttura di interpiano di solaio il solaio può essere più o meno spesso a seconda dei solai che vado a indicare se io mi devo allineare a una certa in una certa posizione che sia intradosso che sia estradosso ci si può allineare all'altezza giusta eventualmente utilizzando il delta quota dell'ambiente quindi andando a fissare un delta quota all'ambiente lo si può spostare in alto e in basso in modo da compensare la differenza di quota volute quindi allinearsi o sull'estradosso o sull'intradosso a seconda delle esigenze allora mi può spiegare la soluzione balcone che viene creato nel tetto ad esempio porzioni di tetto esterno balcone tetto interno tetto interno non ho capito comunque probabilmente sono quelle situazioni in cui o una situazione in cui il tetto è tagliato diciamo che ci si può riferire all'abbaino per la soluzione di questa problematica quindi io farei riferimento comunque sempre al video dell'abbaino con le dovute ovviamente modifiche allora i tetti devono avere esposizioni automaticamente automatico l'esterno il tetto ha automaticamente l'esposizione esterna quindi non c'è bisogno di forzarla infatti non si forza nella schermata del programma non si visualizza non visualizza scusate i pulsanti informazioni simboli mc4 il simbolo ah beh è un semplicemente bisogna attivarli andando nella nel menu di diciamo tenete questo menu qui che è lo che vedete qui in alto quindi non riuscite a vedere il diciamo questi due comandi informazione ed mc4 suite allora se voi andate nella nella personalizzazione del del menu dovreste fare altri comandi ah scusate era questo allora dovete cercare il la barra degli strumenti di accesso rapido questa qui ci sono ovviamente le informazioni gestione licenza ma nel caso non ci fossero quindi ipotizziamo di rimuovere gestione licenza no per esempio e applicare vedete che la gestione licenza adesso è sparita come le informazioni potrebbero non esserci allora voi andate qui a scrivere gestione licenza quindi cercare il comando gestione licenza eccolo qua lo prendete e lo trascinate semplicemente andando a posizionarlo laddove vi serve poi se volete metterlo effettivamente nell'ordine in cui era previsto quindi dopo le informazioni selezionate fate applica e vedete che è ricomparso quindi basta fare questa operazione allora nel caso nel caso di un tetto che a seguito di una rentranza cambia la quota della gronda si può avere sul lato di chiusura due quote differenti che devono sormontare in questo caso come si opera allora è un esempio un po' particolare ma credo che sia l'esempio in cui si taglia il tetto fondamentalmente ne ho fatto un esempio sempre nel webinar dove ho disegnato il tetto con l'abbaino e dovrebbe essere il terzo webinar della parte che è legata al super bonus dove ho fatto vedere proprio il disegno dell'abbaino e ho fatto contestualmente il foro del tetto come ho fatto il foro del tetto si può fare anche una sagomatura esterna non diciamo proprio interna al tetto ma la filosofia è sempre quella come posso attivare le finestre AutoCAD per il layout le finestre AutoCAD sono là sotto dovrebbero essere qui in basso se non ci sono probabilmente bisogna bisogna attivarle adesso sicuramente c'è la funzionalità anche il modello layout vedete qui sotto quindi io posso passare da modello a spazio carta e la attivate diciamo nelle opzioni di AutoCAD che vi mostra la scheda modello layout adesso eccola qua scala finestre di layout blocco finestre di layout questi sono però i blocchi delle finestre quindi non non è questo dovrebbe esserci proprio una funzione per mostrare le finestre di layout ecco qua spazio e modello attivate spazio e modello in modo tale da potervi potervi muovere nel modello nel layout e così dovreste riuscire a visionare quello che vi serve poi per realizzare un controsoffitto o un pavimento devo realizzare un livello di piano ma in pavimento non c'è bisogno di fare nulla nel senso che il pavimento è un pavimento che voi indicate nelle dencopiani un piano ha di per se stesso un soffitto e un pavimento se volete creare anche la parte di controsoffitto come livello come piano allora creerete un piano accessorio per esempio tra piano terra e piano primo in cui chiamate piano terra controsoffitto piano terra piano primo controsoffitto piano primo e identificherete come altezza interpiana del piano terra ad esempio l'altezza che va dal pavimento al controsoffitto poi il controsoffitto lo metterete come soffitto di questo piano terra poi per il piano terra controsoffitto creerete un pavimento che avrà come pavimento il controsoffitto quindi la struttura di cartongesso ad esempio più o meno isolata secondo le vostre esigenze poi darete l'altezza interpiano che sarà l'altezza dell'intercapedine d'aria del controsoffitto poi metterete il soffitto che sarà proprio lo strutturale quindi con il lato rocemento che avete e la stessa cosa farete per il piano secondo ad esempio allora quando si crea un nuovo progetto conviene partire da inizio a disegno o da un progetto similare della stessa zona cancellando l'edificio non cancellate mai l'edificio quando dovete realizzare un progetto nuovo non si fa perché non si fa perché una cancellazione che voi compie che voi fate a livello grafico in realtà non elimina gli oggetti li nasconde e quindi quel file diventerà sempre più grande avrete poi a disposizione un file che partendo magari da pochi capo qualche mega a forza di cancellare rifare il progetto sempre sul medesimo file può venire tranquillamente di 100 mega pur essendo un file come questo per esempio che se voi salvate con nome diventa come file un file per esempio che pesa vediamo subito vediamo vedete meno di 3 mega quindi è un file in cui abbiamo già creato 4 livelli quindi questo è una dimensione diciamo normale di file di questo genere ma io ho già visto file di questo genere che sono 100 mega e subito non mi spiegavo il motivo poi quando ho fatto un po' di indagini ho capito con il cliente che quella probabilmente sarà stata la trentesima cancellazione che veniva fatta di quel file con successiva creazione di nuovo di un nuovo input e così le dimensioni li evitano cioè se volete evitare di avere sempre file che sono delle dimensioni di 30-40 file messi insieme io vi consiglio di non farlo in più c'è un discorso da fare è molto semplice creare una una modalità di disegno nella quale voi vi create il vostro dvt all'interno del quale nel dvt metterete per esempio le zone che vi servono le strutture che vi servono che magari avete prelevato dal vostro archivio personalizzato le avete salvate nel vostro appunto progetto dvt che poi al bisogno voi potete aprire quando fate un progetto nuovo sia che voi clicchiate su inizia quindi qua sia che voi clicchiate qui sul file sul file nuovo voi come sempre aprite un dvt un drawing template questo oggetto contiene che cosa contiene delle informazioni sta a voi decidere quali informazioni deve contenere questo dvt potrebbe contenere una zona per esempio una zona di qualsivoglia tipo abitazione una zona riscaldata climatizzata quello che vi serve può contenere per esempio un paio di strutture adesso faccio un esempio stupido andiamo a prendere una qualsiasi località tantomeno non interessa in particolar modo la località che carico carichiamo quindi per esempio dell'archivio una parete esterna carichiamo un soffitto esterno e basta diciamo che come esempio può anche bastare così sono due strutture ho caricato quindi la zona abbiamo detto e la struttura poi chiaramente potete fare finestre porte compagnia bella non è un problema salvate con nome questo file non lo salvate come dvg ma lo salvate come dvt quindi drawing template questo qua dvt e questo lo chiamo zona più struttura per esempio lo salvo modello di disegno modello di disegno standard metrico si utilizza stili di stampa si va bene utilizza quello che vuoi allora questo template lo chiudo quindi quando io inizio normalmente un file lo inizio col template di default che di certo non contiene la zona per esempio vedete che si io apro le zone qui non c'è nulla ma se quando faccio un file nuovo io scelgo un altro template che è proprio questo qua zona più struttura adesso in poi io scelgo un template che contiene la zona e che contiene le strutture che io gli ho salvato dentro quindi da adesso in poi quando inizio inizio sempre con quel template lì con quel template che appunto ha la zona inserita perché AutoCAD si ricorda dell'ultimo template che avete aperto quindi chiaramente potete tranquillamente scegliere anche un altro template se volete e crearvene N quelli che volete voi usate questa strategia non di certo di copiare tutti appunto le entità grafiche perché è una cosa che proprio non va assolutamente bene ok a questo punto direi che possiamo dichiarare terminato il webinar di oggi vi ringrazio molto per l'attenzione che ci avete accordato vi ricordo che il video appena sarà appunto tutorializzato verrà pubblicato sul nostro canale youtube in modo tale che voi possiate visionarlo per successiva informazione semplicemente per magari ripassare le cose che avete visto oggi quindi attendete qualche paio di giorni e insomma prossima settimana dovremmo riuscire a inserirlo su youtube e tenete sempre d'occhio il nostro sito per eventuali prossimi appuntamenti e quindi per altri webinar che sicuramente faremo grazie a tutti per l'attenzione vi auguro una buona giornata e buon appetito a tutti grazie arrivederci grazie a tutti